A tutti, a nome della FISAC Toscana ringrazio tutti i partecipanti, i gentili ospiti per aver preso parte alla nostra festa, soprattutto un grande ringraziamento visto anche le condizioni meteorologiche parecchie avverse che non hanno reso così semplice anche per alcuni territori venire alla nostra iniziativa. Prima di iniziare con il nostro dibattito riguardante la riorganizzazione del sistema bancario, prima alcuni saluti. Per questo chiamo Laura Sostegni, segretaria generale della FISAC Firenze. Ben trovati, ringrazio innanzitutto la partecipazione in una giornata complicata perché obiettivamente ieri la nostra regione ha vissuto un'emergenza che ha dimostrato comunque, grazie a una prospettiva cioè aver preparato nel tempo le condizioni della tutela di questo territorio, di aver comunque affrontato questa emergenza di passaggio di questo nostro grande fiume e non solo questo che purtroppo determinano nel tempo un'insicurezza che andrebbe tutelata nel migliore dei modi possibili. Siamo alla Camera di Commercio e credo che anche qui bisogna fare un ringraziamento rispetto a chi ci ospita perché in questa nostra Firenze è un luogo che ha permesso spesso alla CGL di essere presente, compreso il nostro congresso ad esempio un anno fa poco più e in quell'occasione dimostriamo, si dimostra quanto le parti sociali rappresentate in questo caso dalla nostra organizzazione ma comunque da un territorio e da un tessuto che è da sempre stato molto operativo, il lavoro l'ha sempre considerato un elemento fondamentale, fondativo di questa città, risponde alla richiesta di ospitalità in un luogo obiettivamente particolarmente bello da vivere in una giornata, in questa giornata di lavori. Io credo che dirvi benvenuti a Firenze sia banale però io credo che il saluto di ospitalità di questi due giorni non a caso avviene qua che è una città che nel tempo, nella storia di questa nostra Italia ha sempre rappresentato in qualche modo un luogo di grande bellezza e nel centro di Firenze risiede la Camera del Lavoro di Firenze, ringrazio Paola Galgani che ci onora oggi la nostra segretaria della struttura qui territoriale della Camera del Lavoro metropolitana, ringrazio la sua presenza perché dimostra come la nostra organizzazione da sempre si attenta a tutti i momenti in cui le categorie che partecipano all'attività della nostra struttura cercano di rendere possibile un dialogo che deve aprire a quella che noi riteniamo la diplomazia degli incontri, dei termini, la vera qualità poi dell'avanzamento della cultura di questo Paese. Allora la Camera del Lavoro, io vi dico perché credo che questo sia importante ricordarla, fu acquistata negli anni 50 dai lavoratori di questa città che volevano che il cuore di chi difendeva il lavoro restasse nel centro cittadino fra Piazza della Signoria e Piazza Santa Croce. Benvenuti a Firenze perché è la città che con lungimiranza 500 anni fa, grazie ai banchieri di quel tempo, grazie ai banchieri, la città che in quel momento finanziò il marmo che oggi tutti ammiriamo e che permise a Michelangelo di determinare la bellezza di questa città che è così in tutto il mondo rammentata. Ovviamente non fu finanziato soltanto quel pezzo di marmo ma il lavoro che intorno a quella realtà succedeva, avveniva, quello che si incrociava in queste strade e quello che occorreva e che ancora oggi credo occorra determinare e che tutti in qualche modo ammiriamo. Oggi occorre coraggio, coraggio che è una parola che ha un significato molto profondo e intenso perché significa agire col cuore, non solo con la mente, per immaginare un futuro migliore che partendo dal lavoro per il valore che ha, noi siamo in un momento importante, ringrazio le segreterie nazionali che hanno permesso che oggi ci fosse questo livello di spessore e di incontro, siamo al rinnovo di un contratto nazionale e che quindi tramite e partendo dal lavoro si determinano le condizioni per il miglioramento che sono necessarie alla nostra società dove purtroppo bisogna in questa fase davvero avere la responsabilità per riuscire a vincere la rassegnazione. Siamo chiamati a riflettere, ad agire perché i cambiamenti siano governati, perché i cambiamenti, i grandi cambiamenti non sono né buoni né cattivi ma dipendono da come le persone poi li agiranno e li agiscono. Bisogna in questo momento determinare un futuro migliore per tutti, per tutti e per le generazioni future e quindi auguro a tutti noi un buon lavoro e due giornate impegnative, ringrazio ancora la segreteria regionale della FISAC che con Daniele hanno determinato, voluto un lavoro collettivo importante, circolare definirei perché queste due giornate avvengano. Grazie ancora. Grazie Laura. Ora chiamo alla Presidenza per i saluti Giacomo Sturniolo, segretario nazionale della FISAC CGL. Ho pensato brevemente di sottolineare un paio di punti, tre rispetto all'iniziativa di oggi, perché mentre pensavo all'iniziativa di oggi, mentre sfogliavo il programma pensavo un po' a che tipo di saluti fare, visto che io non sono di qui e quindi non vi do il benvenuto, ma come FISAC nazionale. Le tre cose che mi hanno colpito, che voglio sottolineare, sono uno, il titolo, il futuro del lavoro. Il titolo ovviamente non è originalissimo, in casa nostra la parola lavoro c'è, però rispetto al dibattito che c'è in questo momento nel nostro Paese è un termine importante associato soprattutto alla parola futuro. Noi l'abbiamo un po' utilizzato come motto, era il titolo di una mozione, il lavoro decide il futuro e quindi è stato come dire un punto importante della politica di questi anni, della nostra presa di posizione di questi anni. Ieri a Bologna l'ha sottolineato il segretario generale Maurizio Landini questo aspetto importante. Però fino a qualche anno fa, se vi ricordate, nei nostri dibattiti c'era un taglio molto più pessimistico e catastrofista rispetto al lavoro. Si sottolineavano i testi di Rifkin, il testo di Martin Ford, il futuro senza lavoro, quindi c'era questo taglio che dava l'impressione, dava l'idea che in questa società si pensasse a un futuro senza lavoro. Riprendere e ragionare su una società dove il lavoro cambia, ma il lavoro continua a esistere è un dato forse ovvio per chi conosce la storia, perché il lavoro è cambiato tante volte, ma non scontato e quindi trovo molto positivo che in questa iniziativa si metta al centro il lavoro. Seconda cosa che voglio sottolineare, lo diceva prima Laura, il coraggio. La cosa che ho notato, sì, non lo dico in senso ironico, il coraggio vero, quello di fare le cose col cuore. Nei tempi dei tweet e dei like, pensare di fare sì una festa del lavoro ma che duri tre giorni così articolata è una scelta coraggiosa, una scelta coraggiosa però importante per affermare quello che noi siamo, per dire le nostre cose e affermare i nostri concetti. È una cosa non scontata, coraggiosa e lo voglio sottolineare. Ultima cosa che voglio sottolineare è il fattore identità. Prima dicevo in questi tre giorni sottolineiamo quello che noi siamo. Si è discusso e si discute della parola e del concetto di identità soprattutto a sinistra e anche in sindacato. Nell'epoca della realtà liquida anche l'identità è sempre più liquida. Lo vediamo molto a sinistra, lo vediamo un po' meno nel mondo del lavoro ma iniziamo a vederlo. Iniziamo a sapere che non tutti i nostri iscritti sono particolarmente di sinistra, un po' di anni fa lo sarebbero stato, adesso da un po' che non lo sono, ma iniziamo a vedere che anche l'identità dei nostri sindacalisti inizia a essere più fluida e quindi in qualche sede ci stupiamo quando si spostano, quando lasciano l'organizzazione e passano da qualche altra parte. Quindi sono temi che ci coinvolgono. Quando ci si rappresenta, è una tre giorni di festa del lavoro, rappresenta l'organizzazione, quando ci si rappresenta nella modalità in cui si è è un modo di affermare l'identità che secondo me è il modo migliore. Si possono fare corsi di formazione, si possono fare varie cose ma l'identità non si impone, l'identità si rappresenta e si manifesta. In questa iniziativa c'è l'identità della Fisac CGL. Fisac CGL sindacato di categoria che sa approfondire i temi del proprio settore e lo sviluppo del proprio settore, ma sindacato confederale che riesce ad avere una visione più ampia e quindi a ragionare sulla rappresentanza nella politica, a ragionare sull'inclusione, sull'immigrazione. Quindi in queste tre giorni c'è tutta quella che è la Fisac CGL, ci siamo noi, c'è un qualcosa in cui vogliamo continuare a riconoscerci e questo ritengo la cosa più positiva di questa iniziativa. E quindi a maggior ragione vi ringrazio e auguro a tutti e a tutti buon lavoro. Grazie Giacomo. Adesso chiedo di venire a intervenire Claudio Guggiari, segretario della CGL Toscana, con delega al credito e alle attività produttive. Buongiorno a tutti e a tutti, intanto grazie dell'invito. Io penso sinceramente, noi pensiamo che un'iniziativa di questo genere che tratta di lavoro, ugualianza, politica e democrazia in questo momento sia un'iniziativa importante che suscita a noi molta attenzione come del resto noi abbiamo avuto attenzione per quanto riguarda la questione del credito. Non è un caso infatti che dopo averlo proposto al nostro congresso regionale da poche settimane noi abbiamo sottoscritto a livello regionale un patto per lo sviluppo in Toscana che riguarda non solo le organizzazioni sindacali e le istituzioni ma tutte le associazioni anche di categoria e all'interno di quel patto c'è un capitolo che riguarda fondamentalmente il credito perché se noi guardiamo la Toscana, la Toscana ha alcune situazioni positive ma ha anche situazioni che a partire da come riuscirà a devolversi il credito nel nostro paese e quindi anche nella nostra regione potranno subire delle modificazioni positive o negative. È una Toscana fatta a più velocità, noi siamo in Camera di Commercio come veniva detto, a Firenze siamo a Firenze, Firenze è l'area centrale e l'area centrale anche rispetto allo sviluppo di questa Toscana. Fra l'altro fa la differenza anche rispetto all'area metropolitana perché anche dentro all'area metropolitana ci sono delle profonde differenze se penso in particolare a Prato anche a Pistoia, così come ci sono delle profonde differenze se penso alla costa di questa regione o alle aree interne, anche quella a sud da dove vengo io fisicamente tutte le mattine abitandoci. Quindi noi abbiamo bisogno di andare oltre quel pezzo importante dello sviluppo di questa Toscana che è garantito dalla capacità esportativa di tante, non tantissime ma insomma di tante grandi imprese soprattutto collocate qui nell'area centrale di questa regione. E abbiamo bisogno di farlo perché noi abbiamo bisogno di un lavoro di qualità che guardi ai diritti e alle condizioni del lavoro in maniera fondamentale. E da questo punto di vista quindi il fatto di avere un credito che sia attento alle esigenze territoriali e che sappia distinguere le condizioni di investimento è fondamentale. Io per esempio penso che il credito deve rivolgersi al sistema dello sviluppo, all'imprenditoria di questo Paese non più soprattutto attraverso un algoritmo ma cercando di mettersi anch'esso in discussione per dare una spinta fondamentale alla possibilità di crescere nel sistema produttivo partendo consentitemi di dirlo dalle capacità imprenditoriali che negli ultimi anni io vedo da un punto di vista endogeno scarseggiare sempre di più. Quindi è fondamentale che vi interroghiate su queste cose, è per noi fondamentale ascoltare e insieme anche provare a determinare degli avanzamenti e fra l'altro in relazione ad una situazione qui in Toscana fra le altre vede anche una questione che è quella del Monte dei Paschi di Siena e a proposito di lavoro grazie a quei lavoratori e a quelle lavoratrici permettetemi di dirlo quella banca oggi è in una condizione che certamente la vede ancora nella necessità di superare un guado ma diciamo sono stati fatti dei passi in avanti e questi passi in avanti oggi hanno bisogno di un impegno ancora più marcato perché come sapete insomma alcune decisioni dovranno essere assunte. Ma appunto io penso che parlare di democrazia, di inclusività eccetera rispetto al credito significa proprio sostenere un credito che è vicino alle esigenze delle imprese e delle famiglie, un credito che non tanto paradossalmente come la democrazia ha bisogno di espandere la sua capacità di sorreggere questo sviluppo. Se io penso all'enorme questione della digitalizzazione, al fatto che oggi la digitalizzazione possa rappresentare addirittura se non permia in profondità questa società un elemento di esclusione dalla vita democratica di questo Paese. Così il fatto di un credito che debba essere sempre di più sempre meglio, ritornare ad essere sempre di più e sempre meglio attento alle esigenze dell'impresa significa anche e quindi dello sviluppo e quindi di un lavoro di qualità significa appunto anche in termini di democrazia darci più chance e mantenere quella capacità di inclusività che io penso sia fondamentale per uno Stato repubblicano e democratico come il nostro. Quindi io credo che l'interrogazione su che cos'è sia il credito e attraverso su che cos'è il credito dovrà essere il credito nel prossimo futuro, come ho già detto, sia fondamentale anche perché io credo la politica bisogna che ci ascolti sempre di più. Io penso che quando la politica parla di lavoro sempre di più e sempre meglio deve innanzitutto parlare di confini morali che non possono essere superati parlando del credito, parlando scusatemi del lavoro e delle condizioni del lavoro e proprio perché ci sono dei confini morali che significano poi condizioni materiali delle persone significa non arretrare, significa avere una politica che pensa non a far arretrare i diritti e le condizioni del lavoro ma a preservarli e a modificarli recuperando anche situazioni che nel frattempo si sono perse in termini di diritti perché la condizione del lavoro e la qualità del lavoro significa avere una grande chance in questo Paese per puntare alla qualità del nostro sistema economico e produttivo e quindi ad un futuro quello che noi appunto auspichiamo. Grazie. Ringrazio la CGL Toscana, adesso l'ultimo intervento prima del dibattito di stamane e quindi do la parola a Daniele Quiriconi, segretario generale della FISAC Toscana. Poi i saluti sono finiti, se no ci facciamo mezzogiorno. Intanto un benvenuto ai nostri ospiti, grazie di averci onorato del vostro intervento. È stato detto ma il titolo della tre giorni che spazia diciamo tra i temi un po' più istituzionali di una categoria sindacale e elementi generali della rappresentanza politica, una vera democrazia. Secondo me incrociano davvero i temi di un dibattito oggi molto delicato, insomma siamo in presenza secondo me di una fragilità istituzionale che è oltre la fragilità del quadro politico a una comunicazione politica sempre più rozza, semplificata, fatta di slogan. Pensate appunto alle semplificazioni di un tema di dimensioni epocali come quello delle migrazioni, anche economiche, non solo per le guerre, che ci porta ad una presa di posizione, ad una scelta di campo per quanto impopolare possa essere. Ho pensato a un tema, è stato ricordato prima di me come quello della tante volte richiamata rottura sentimentale tra il mondo del lavoro e la sinistra politica più in generale con un pensiero progressista. Tema che viene da lontano ma che negli ultimi anni si è allargato sempre di più. Mi pare Giacomo sempre più spesso noi incontriamo attivisti, insomma sindacali che dovrebbero avere magari una consapevolezza diversa che dichiarano non necessariamente di votare in un modo o in un altro, l'hanno sempre fatto, non ascoltano i dirigenti, ma di non andare a votare, di non trovare rappresentanza. Questo è un tema democratico prima che politico di posizionamento e naturalmente non lo risolviamo con un dibattito ma noi pensiamo che questo tema, il tema di come si dia rappresentanza ai problemi dei lavoratori che altrimenti vengono rappresentati anche qui in termini sloganistici e senza grande futuro, è un tema che si riproporrà e rischia di far sì che in Italia si vedano cose vissute in stagioni non proprio apprezzabili dal punto di vista democratico. Naturalmente in questo primo dibattito proveremo a discutere della riorganizzazione o del futuro di questo comparto. La Toscana, il comparto del Crito, la Toscana è stata insieme ad altre regioni pesantemente investita negli anni scorsi dalla riorganizzazione che ha fatto perdere in dieci anni più di 20.000 posti di lavoro. Noi abbiamo avuto alcuni punti di rottura drammatica nel rapporto tra gli stessi lavoratori e risparmiatori. Penso al caso di Banca Etruria dove ci si trovava di fronte a un cortocircuito paradossale con l'organizzazione dei consumatori della CGL sostanzialmente che patrocinava migliaia di casi di iscritti alla CGL che andavano a insultare i lavoratori iscritti e non iscritti all'organizzazione. Un cortocircuito diciamo che ha determinato una situazione inedita e non è qui il caso almeno nella mia presentazione di affrontare questo tema ma è un argomento che richiama e sottolinea con forza come sia importante per noi la battaglia e la lotta per la trasparenza nelle informazioni ai clienti, quella contro le pressioni commerciali di cui è oggetto anche il confronto per il rinnovo del contratto nazionale e così via. Sono aperte nel nostro territorio vicende molto importanti, ancora appesa, è stata evocata da Claudio Guggiari la questione di Monte dei Paschi. Noi abbiamo da trasmettere un messaggio non nuovo anche al governo, non abbiamo nessuna fretta, le operazioni si fanno quando ci sono progetti industriali certi e importanti, l'Europa è piena di grandi aziende multinazionali anche bancarie con dentro come azionista lo Stato, quindi le cose si fanno, si fanno per bene, non perché bisogna farle subito e questo vale anche per l'Europa, ma naturalmente siccome il comparto del credito è oggetto di una riorganizzazione che vede nuovi competitori, giganti, oligopoli, giganteschi oligopoli da Apple a Google, questo tema intreccia il futuro, parlato del passato, prima ma nella nostra discussione con i nostri ospiti sarà interessante capire come ci si può riorganizzare per fronteggiare l'aggressione dei nuovi competitori, difendere l'occupazione e la qualità dei servizi verso i cittadini. La Toscana è una regione in cui in decine di comuni non c'è più uno sportello bancario, spesso non c'è più un ufficio postale, si tratta per lo più di realtà periferiche, montane, dove parlare anche di banda larga è davvero un'utopia, per lo più abitati da persone molto anziane, noi parliamo spesso di periferie sociali e urbane, ma anche queste producono uno straniamento rispetto, secondo il mio modesto parere, rispetto a un concetto larco di democrazia, perché una persona abbandonata in un paesino dove al massimo quello che può trovare è la banca dei tabaccai, insomma probabilmente ha qualcosa da dire rispetto alle opportunità che gli vengono offerte come possibilità di vivere in un territorio. Ma bando diciamo alle premesse, invito i nostri ospiti alla Presidenza, a partire da Paolo Paronetto del Sole 24 Ore Radio Corche, modererà il dibattito, nostro segretario generale nazionale Giuliano Calcagni, Lando Maria Sileoni, segretario generale della FAB, il direttore generale di ABI Giovanni Sabatini e il vice segretario della CGL nazionale Vincenzo Colla. Buon dibattito. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa tavola rotonda, il cui tema è la riorganizzazione del sistema bancario, un tema che è un tema di oggi, un tema di domani e anche un tema di ormai attualità per il sistema bancario da qualche anno. Sembra ormai che la riorganizzazione sia non più una questione eccezionale ma una questione del lavoro di tutti i giorni. Io faccio questo lavoro, io seguo il sistema bancario per Radio Cor, l'agenzia di stampa del Sole 24 Ore dal 2007 e mi ricordo che una delle prime cose che mi ha chiesto il mio caporedattore dell'epoca fu di seguire un fenomeno all'epoca piuttosto frequente, nulla di eccezionale e cioè banche che compravano sportelli bancari di altre banche, una cosa che oggi sembra fantascienza. Io mi ricordo operazioni in cui delle banche compravano sportelli di altre banche a prezzi oltre 7 milioni per sportello. La banca che nello specifico ha fatto questa operazione oggi non esiste più, non certo per questa acquisizione ma diciamo che non ha aiutato. Oggi naturalmente gli sportelli si chiudono, non si vendono e non si comprano. Ricordo un'altra cosa che sembra fantascienza ma che è soltanto dieci anni fa, prima della crisi Lehman Brothers, prima della crisi finanziaria, ricordo che nelle conference call che ci sono ogni trimestre con gli amministratori delegati delle banche, gli analisti rimproveravano ad alcune banche, magari banche piccole, di avere un eccesso patrimoniale e consigliavano di distribuirlo ai soci come extra dividendo. Eccesso patrimoniale non credo di averlo mai più sentito come locuzione da pochi mesi dopo in avanti. Il common equity tier 1, cioè il coefficiente patrimoniale che all'epoca si chiamava core tier 1, non aveva neanche una slide dedicata nelle presentazioni dei banchieri, sì c'era come parametro ma diciamo che i temi centrali erano altri. Quindi 12 anni il mondo è cambiato, il sistema bancario è cambiato al di là degli eventi eccezionali che hanno investito in particolare questo territorio che sono stati ricordati come Montepaschi, Banca e Truira, ma è proprio cambiato completamente il lavoro stesso sia dei bancari ma anche dei banchieri, cioè gli amministratori delegati si sono trovati a dover fare piani industriali con premesse completamente diverse rispetto a quelli del decennio degli anni precedenti. Oggi diciamo che un contesto di mercato fatto di tassi negativi o comunque molto bassi che non sembrano più un'eccezionalità anche in questo caso ma una costante, l'innovazione tecnologica che è stata citata anche questa che cambia il modo di lavorare in banca, la concorrenza dei giganti del fintech che rischia di mangiare quote di mercato e anche in questo caso di mettere in difficoltà il modello di banca, le regolamentazioni sia nazionali ma soprattutto ovviamente oggi internazionali e quindi europee su cui l'ABI insiste spesso la necessità di una regolamentazione stabile e comune a tutti che non comporti continui cambiamenti, continui cambiare i presupposti di volta in volta sono domande a cui il sistema bancario è chiamato a rispondere per tutelare in primo luogo il lavoro dei lavoratori del settore e la solidità delle aziende che sono naturalmente aspetti legati. Quindi nonostante questo contesto difficile comunque possiamo dire che oggi in questo momento le banche italiane sembrano godere di salute abbastanza buona, abbiamo appena visto la pubblicazione dei conti dei primi nove mesi del 2019, i primi cinque istituti bancari hanno registrato utili cumulati per quasi 9 miliardi, certo in parte dovuti a fattori straordinari ma comunque è una crescita del 38% rispetto allo scorso anno, come ci sono riusciti? Beh diciamo che gli anni scorsi ci sono state grandi pulizie di bilancio sul fronte dei crediti che ormai sono in gran parte alle spalle quindi oggi pesano di meno, c'è stato uno sforzo innegabile per diversificare i ricavi, molti piani industriali di banche oggi sono piani industriali che comportano anche attività assicurative, wealth management, una spinta sui servizi di consulenza quindi anche la banca diversifica molto, naturalmente c'è anche la voce, la ricetta classica se i ricavi non crescono per aumentare gli utili si tagliano i costi naturalmente ed è quello di cui parlavamo anche prima, io prendo i dati dell'ufficio studi di Mediobanca, soltanto nel 2018 si sono persi 9.000 posti di lavoro e si sono chiuse 2.000 sportelli, negli ultimi dieci anni il calo occupazionale è di 51.000 posti quindi il 17% rispetto ai livelli precedenti quindi naturalmente è un tema importante siamo in attesa di almeno tre piani industriali nuovi di grandi gruppi bancari, il primo è Unicredit adesso a dicembre poi ci saranno Banco BPM e UB Banca, anche qui diciamo che molti si aspettano come una delle leve un ulteriore contenimento dei costi con ulteriori riduzioni degli organici quindi quello che chiedo per cominciare ai partecipanti a questa tavola rotonda siamo come è stato ricordato anche negli interventi prima in una fase di rinnovo contrattuale naturalmente so che il direttore generale Sabatini non è nel tavolo direttamente di negoziazione quindi senza entrare nei dettagli mi chiedevo però quali sono i temi, quali sono intanto le aspettative su questa trattativa e quali sono i temi cruciali che vengono considerati per riorganizzare per disegnare il futuro del sistema bancario a partire da questo contratto ma non solo a partire da questo contratto. Ad esempio credo che l'ABI tenga molto al tema della riforma degli inquadramenti che ormai è vecchia di vent'anni, c'è stata se non ho capito male una sostanziale convergenza di vedute su alcuni temi come la cabina di regia per l'innovazione tecnologica quindi dottor Sabatini partirei da lei chiedendo appunto a che punto siamo su questo rinnovo e poi più in generale come vedete voi il futuro del sistema bancario, il modello di banca per i prossimi anni. Grazie. Intanto buongiorno a tutti, un sincero ringraziamento a Giuliano, alla FISA, a CGL per questo invito. Ringraziamento che non è formale perché credo che queste sono le occasioni dove il confronto e una riflessione serena, aperta sui temi che sono stati illustrati sia negli interventi introduttivi sia dal nostro moderatore è fondamentale perché sono convinto che il settore bancario ha un ruolo da giocare nel far recuperare crescita, occupazione e competitività al sistema economico italiano ed europeo. Ecco io credo che due osservazioni introduttive. Prima di tutto dobbiamo guardare come quadro di riferimento non soltanto al quadro italiano ma al quadro europeo perché comunque l'Italia è una componente fondamentale dell'Europa ed è all'Europa che dobbiamo guardare anche in una prospettiva di crescita e sviluppo. La seconda osservazione l'avete sentita più volte dal mio presidente, dal presidente Patuelli che invia tramite me anche i suoi saluti e gli auguri di buon lavoro a questo convegno non dobbiamo parlare di sistema bancario il sistema bancario forse era quello ante riforma TUB quando il sistema era effettivamente fatto fondamentalmente da banche pubbliche oggi parliamo di settore bancario perché l'idea di sistema dà l'idea di un complesso che si muove tutto nello stesso modo che è un'unica componente di un meccanismo. In realtà il mondo è estremamente variegato parliamo di settore bancario perché le banche sono tutte in concorrenza fra loro scelgono differenti modelli di sviluppo differenti aree su cui concentrare le loro attività e quindi anche di questo elemento che sembra nominale ma in realtà è di sostanza bisogna tener conto quando parliamo anche del rinnovo del contratto. Venendo quindi fatte queste due premesse io credo che in questa logica di garantire che il settore bancario svolga ancora il ruolo fondamentale di sostegno a famiglie e imprese dobbiamo chiederci che tipo di banche vogliamo permettetemi di nuovo un riflesso rispetto al quadro europeo oggi quello che osserviamo ed era stato citato c'è una combinazione di elementi che crea degli incentivi a fare sempre meno l'attività tipica della banca raccolta del risparmio e erogazione del credito ma a fare cose diverse e questo da cosa è dovuto ovviamente una congiuntura di tassi di interesse a zero o addirittura negativi è una continua richiesta regolamentare di aumento di dotazione patrimoniale. È evidente che questi due elementi combinati portano a far sì che poiché comunque le banche sono imprese e devono raggiungere un equilibrio economico il capitale che comunque rimane una risorsa scarsa viene allocato su attività che hanno una maggiore redditività e quindi oggi con tassi negativi per il credito è chiaro che c'è un incentivo a fare altre cose ma chiaramente questo non fa bene all'economia sono stati citati prima i risultati delle banche italiane ma questo è vero anche in Europa la redditività viene sempre meno dalla gestione caratteristica quindi dall'attività di erogazione del credito ma sempre di più o da operazioni di finanza straordinaria o da altre tipologie di attività trading, attività finanziarie. Ecco quindi credo che già una prima domanda e questa è soprattutto per le istituzioni europee è tenuto conto che poi la regolamentazione delle banche è nelle mani dei legislatori europei del regolatore europei e della supervisione europea che tipo di banche vogliamo? Vogliamo modificare il modello di finanziamento dell'economia europea? Può anche essere qualcosa di condivisibile affiancare nuove fonti di finanziamento per imprese e famiglie al canale bancario ma nell'immediato, nei prossimi due o tre anni la microimpresa continuerà a essere finanziata dalle banche quindi dobbiamo, secondo me, ragionare e quindi venendo anche ai temi del contratto a come far sì che questi modelli di banca che comunque si fondano sull'erogazione del credito rimangano sostenibili nel tempo e sostenibile significa da un punto di vista dell'impresa sostenibile economicamente ma anche sostenibile dal punto di vista delle persone che lavorano nelle banche e qui c'è anche il tema della sostenibilità rispetto a un mondo in continua trasformazione l'innovazione tecnologica che se da un lato offre delle grandi opportunità dall'altro pone dei quesiti di nuovo anche sotto il profilo regolamentare perché oggi la concorrenza tra banche e nuovi fornitori di servizi prossimi a quelli bancari e non parlo soltanto del settore dei pagamenti ma parlo ormai anche di erogazione del credito di altre attività se voi guardate il gruppo Amazon e andate a vedere tutte le società che compongono questo gruppo e le guardate tutte insieme beh quella cosa sembra anche molto una banca solo che non è regolata come una banca e peraltro ha anche un altro grande vantaggio si sceglie la giurisdizione dove pagare se pagare le tasse mentre invece questo per le banche avendo una sede fisica di riferimento una sede, una giurisdizione in cui bisogna essere autorizzati sono soggette a regolamentazione e chiaramente pagano le tasse secondo le regole fiscali della giurisdizione in cui operano quindi questo è l'altro grande tema quindi i temi su cui stiamo riflettendo di nuovo il punto di partenza è e credo sia assolutamente condiviso vogliamo arrivare a un contratto il prima possibile perché è importante per ridare una cornice di riferimento per guardare al futuro per guardare allo sviluppo per consentire a imprese persone bancarie le imprese che lavorano nelle banche di avere un quadro certo di riferimento un contratto come dicevo sostenibile per le imprese e per le persone e quindi un contratto che sia in grado di aiutare il settore, le persone che lavorano nel settore a gestire e non a subire i cambiamenti credo che questo sia fondamentale l'elemento fondamentale di cambiamento a fianco alla regolamentazione ma magari su questo ci torniamo dopo è il cambiamento tecnologico anche in questo caso il cambiamento tecnologico deve essere gestito anche in un mondo dove il cambiamento tecnologico offre nuove modalità di interazione con la clientela offre la possibilità di fornire nuovi prodotti e servizi le persone rimangono devono rimanere centrali perché in un settore dove la fiducia è l'elemento fondamentale anche di successo da un punto di vista commerciale ebbè la fiducia si costruisce con il rapporto delle persone e in prima linea ci sono le persone che lavorano per le banche e che interagiscono con la clientela e quindi le persone rimangono fondamentali anche a fronte di un nuovo modello altamente e tecnologicamente avanzato questo è uno degli elementi fondamentali e credo che anche qui la convergenza che si sta creando ad esempio sull'idea di avere un organismo bilaterale che da un lato faccia il monitoraggio degli sviluppi della tecnologia sui modelli organizzativi del lavoro all'interno delle imprese le nuove figure professionali e che svolga questa attività in maniera continuativa perché l'innovazione è incessante l'elemento nuovo della tecnologia è un cambiamento una innovazione che ha tassi di crescita e di velocità esponenziali ecco questa attività continua per fornire indicazioni anche per proporre adeguamenti al contratto in vigenza dello stesso perché il contratto possa rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori è un elemento fondamentale e positivo e su cui di nuovo stiamo costruendo un'importante convergenza un altro tema importante è quello di da un lato riaffermare la centralità del contratto collettivo nazionale ma allo stesso tempo di trovare un punto di equilibrio tra la contrattazione di primo e di secondo livello perché come dicevo le banche stanno adottando modelli organizzativi modelli di sviluppo tra di loro differenti dimensioni tipologia di clientela raggio di azione geografico fanno sì che le banche siano tutte differenti tra di loro ma devono avere un quadro certo di riferimento che è rappresentato dal contratto collettivo nazionale e poi le necessarie i necessari adeguamenti al modello specifico adottato da ciascuna banca trovano nel secondo livello quella flessibilità che consente poi di avere un settore bancario diversificato settore bancario diversificato che serve anche al tipo di economia che noi abbiamo in Italia e in Europa io non credo che il mantra che ci viene spesso anche dalle autorità di vigilanza per cui il tema è consolidamento come unica risposta alla riduzione e efficientamento dei costi sia l'unica risposta possibile e soprattutto se di consolidamento si deve parlare deve essere basato su effettive valutazioni di mercato e non semplicemente imposto da chi non sempre ha un'esperienza concreta gestionale quindi io sono convinto che la diversità dell'ecosistema bancario sia fondamentale per sostenere un'economia che è fatta di grandi medie ma soprattutto piccole piccolissime aziende dove anche la banca del territorio la banca regionale la banca locale ha un ruolo da svolgere se ben gestita può avere la sua capacità di rimanere sul mercato un altro tema scusate saltando un po' anche di palo in frasca rispetto a questo tema dell'importanza anche di avere banche del territorio ecco una prima critica al linguaggio che ahimè usiamo in Europa quando ci riferiamo alle banche del territorio vengono definite le banche meno significative devo usare l'inglese less significant institution ecco è un concetto sbagliato una banca per quanto piccola è sempre significativa per il territorio per la la provincia per quell'area economica e sociale in cui presta la sua attività e quindi anche in questo caso occorre una maggiore proporzionalità nel quadro delle regole ma anche un tema che credo sia rilevante su cui ragionare insieme è quello di come gestire le eventuali crisi delle banche di minore dimensione il quadro europeo in quest'area non sta funzionando bisogna dirlo con chiarezza il quadro immaginato nell'ambito dell'unione bancaria come secondo pilastro oggi ha un modello che non risponde alle effettive esigenze rispetto a quanto stiamo discutendo oggi abbiamo il quadro della risoluzione che interessa soltanto le grandi banche ma quando in crisi va una banca che non supera questo tra l'altro quasi esoterico rito che è il cosiddetto public interest test la banca va in liquidazione secondo le norme nazionali la liquidazione è sempre un processo che distrugge valore che ha un fortissimo impatto negativo economico e sociale e ahimè l'Italia ha fatto delle negative esperienze in questo settore occorre cambiare modello e qui evitando la liquidazione negli Stati Uniti ci sono quindi non bisogna inventare l'acqua calda ci sono modelli dove la liquidazione è veramente l'ultima risorsa per gestire una crisi avevamo un modello che in qualche modo funzionava prima della sciagurata sentenza Tercas scusate della sciagurata decisione Tercas della commissione europea della DG Comp che ha impedito gli interventi preventivi fatti tramite il fondo tutela dei depositi fortunatamente la Corte di Giustizia europea ha dimostrato la totale infondatezza di quella decisione anche se è ancora in corso ora il secondo livello di giudizio però questo la gestione delle crisi è un altro tema fondamentale del quadro europeo che deve essere messo a posto affinché poi il nostro settore possa anche gestire le inevitabili crisi che prima o poi possono accadere ma nell'ambito di una cornice che consenta di non distruggere valore che consenta di tutelare i rapporti con la clientela che consenta di tutelare le persone che lavorano nella banca in crisi quindi è uno scenario sicuramente complesso forse sono stato un po' troppo lungo e anche non sempre lineare nella discussione però ecco credo che il confronto anche di oggi ci aiuta a capire quanto sia rilevante arrivare a un contratto che renda sostenibile il settore per le imprese e le persone che ci lavorano e che possa effettivamente rappresentare un punto fermo su cui costruire le strategie delle banche per un mondo che sta comunque cambiando in continuazione grazie grazie a lei grazie anche per l'intervento ricco di spunti su alcune cose torneremo dopo passerei adesso alla controparte partendo da Sileoni se non se non sbaglio a fine mese avete due incontri importanti in ambi sul contratto allora intanto come sono le aspettative e quali sono per voi i punti fondamentali per arrivare a un contratto sostenibile sia per i lavoratori che per le banche grazie allora buongiorno intanto vorrei soffermarmi molto brevemente ma sinteticamente su alcuni passaggi del direttore generale dell'Abi Sabatini quando parla di crescita occupazione e competitività è un po' lo scenario dove tu guardavi ecco questo deve essere un contratto nazionale invece che per la prima volta si deve occupare anche della clientela perché il bene primario loro solo dimenticano ma il bene primario delle banche sono la clientela e questo è un contratto che sul tema delle pressioni commerciali conseguentemente della vendita dei prodotti finanziari a rischio come è stato anche purtroppo in un recente passato in questo contratto deve uscire dalla categoria e deve toccare in maniera positiva tutti gli aspetti che toccano la stessa clientela questo è il primo punto io non condivido quando sia Giovanni Sabatini che il presidente dell'ABI Patuelli parlano che non è un sistema bancario ma è un'industria bancaria italiana ma è un settore bancario invece dovrebbe essere un sistema bancario noi dovremmo avere per esempio un fondo interbancario non reticente nel momento in cui ci sono delle crisi aziendali di gruppo perché pensare di poter poi avere sempre un sostegno anche quando come giustamente dicevi tu prima ci sono circa 9,4 miliardi di utili avere un sostegno anche verso quelle banche perché ci sono focolai di crisi importanti che nascondono un po' tutto il settore ma ci sono quindi la sintesi il tema del fondo interbancario avrebbe un valore politico ancora più stringente ancora più vincolante per le stesse banche e per gli stessi gruppi bancari nel momento in cui tutti si sentissero parte di un sistema invece dietro il fatto e qui c'è un po' una spiegazione di carattere politico vedo Agostino qui davanti con il quale ho diviso anni importanti della mia vita e oggi mi sto confrontando con grande serenità e con grande affinità con Giuliano Calcagni questi signori non lui in particolare ma le banche hanno la volontà e hanno il desiderio di non far passare il concetto del sistema di punto bancario ma di un settore perché se fosse un sistema le crisi dovrebbero essere risolti dal sistema se fosse un sistema per esempio questo passaggio che Giovanni ha fatto rispetto alla peculiarità che ogni gruppo bancario ha rispetto all'altro cioè tradotto alla competizione sfrenata di un gruppo bancario verso l'altro voi pensate che ci sono amministratori delegati che fanno parte dell'esucodio di Abbi che si incontrano si dando la mano e si detestano perché ogni gruppo è armato in concorrenza in competizione con l'altro gruppo bancario dovrebbe essere esattamente il contrario dovrebbe essere un sistema oggi c'è un caso Carigge da risolvere è intervenuto il fondo interbancario ma dopo mille pressioni c'è stato il caso delle due banche venete e delle quattro ex bridge bank come è stato ricordato prima voi avevate banche Trudia dove è dovuto intervenire lo Stato perché il fondo interbancario è intervenuto in parte ma il fondo interbancario ha cercato sempre di buttare la palla in tribuna invece di prendersi a carico in carico tutte le crisi del settore parliamo di un settore che ha chiuso che chiude quest'anno con un miliardo a mese in più di utili è un settore che sta distribuendo importanti dividendi agli azionisti quindi quando ci venite a dire o ci vengono a dire in trattativa che 200 euro sono pochi che il TFR dovrebbe essere spalmato con una soluzione diversa rispetto a quella tradizionale prima dovrebbero ricordarsi in qualche modo che ci sono 9,4 miliardi di utili un miliardo di utili al mese e per tanto per darvi una piccola indicazione intesa unicredit da soli rappresentano l'81% degli utili del settore allora se vale come vale la considerazione che ha fatto prima il vostro segretario ho seguito con attenzione il vostro segretario della Toscana quando parlava degli sforzi che hanno fatto le lavoratrici e i lavoratori del Monte dei Paschi perché sono stati fatti degli sforzi enormi io ricordo sempre lo dico anche in altri ambiti che i lavoratori del Monte dei Paschi e le lavoratrici del Monte dei Paschi e la stessa banca perché Morelli dal mio punto di vista ha operato bene sono stati oggetto di assalto di sciacallaggio da parte di altri gruppi bancari quando c'era la fuga dei clienti e noi cercavamo con Giuliano e anche con Agostino di non far uscire in qualche modo la voce che la gente andava allo sportello e portava i soldi perché significava mettere ancora di più in crisi il Monte dei Paschi le altre banche non hanno guardato la crisi del Monte dei Paschi anzi hanno fatto operazioni di sciacallaggio andando giù duro se invece fosse stato un sistema pur nella logica del mercato pur nella logica della competitività insomma probabilmente le banche avrebbero dovuto muoversi in modo meno integralista e molto meno spregiudicato che cosa c'è da riconoscere all'ABI rispetto a prima che oggi ha un ruolo politico oggi non dipende più dal MEF non dipende più dai governi con la presidenza Paduelle e con la direzione generale di Sabatini hanno finalmente riconquistato un ruolo politico e noi dialoghiamo quando c'è da dialogare bene con loro perché sappiamo che non dipendono più dai cosiddetti centri di potere della politica romana quali sono le due o tre preoccupazioni vengo poi brevemente che vorrò ascoltare con attenzione sia Vincenzo Colla che Giuliano Calcagni alla domanda che cosa cerchiamo noi nel contratto nazionale noi cerchiamo una contropartita economica importante rispetto alla nostra richiesta cerchiamo di portare a casa il tema dei diritti e delle tutele e abbiamo chiesto per la prima volta un ripristino dell'articolo 18 all'interno del contratto nazionale di lavoro vogliamo assolutamente io però non voglio vi ringrazio dell'applauso ma per onestà intellettuale vi dico che il vostro segretario generale si sta battendo come un leone sull'argomento e noi come Fabi l'abbiamo sempre affiancato e lo faremo primo perché ci chiediamo e poi perché tradizionalmente oggi abbiamo la grande possibilità di per me è un onore avere Vincenzo Colla qui il settore bancario in Italia da sempre a livello sindacale tra Fabi e FISA e CGL tranne qualche rarissima eccezione ma che fisiologica hanno avuto sempre un'apportante affinità elettiva da questo punto di vista e questo la presenza qui mia sta a dimostrare che noi vogliamo continuare su questo percorso quindi parte economica parte normativa all'argomento che riguarda le tutele e poi c'è il problema i due grandi problemi che dovremmo affrontare uno l'ha citato prima Giovanni che ha ripreso il presidente del caso Poloni in un'intervista recentemente al Sole 24 quello della riforma degli inquadramenti io per l'organizzazione sindacale che rappresento per me il tema della riforma degli inquadramenti ve lo dico subito a costo di essere poi e non penso di essere smentito noi se dovremmo mettere mani alla riforma degli inquadramenti per noi la riforma degli inquadramenti deve essere minima l'abbiamo detto in Abbi recentemente l'abbiamo detto come segretari generali minima significa che non devono essere toccate le tasche dei lavoratori perché non ha senso che prendiamo 180-190 euro da una parte e poi con la mano sinistra e con la mano destra le riconsegniamo una parte alle banche l'altro tema pericolosissimo che non condividiamo l'impostazione fatto da Abbi è il rapporto fra il primo e il secondo livello qui una nota positiva e una negativa la nota positiva è che siamo convinti che il contratto rimane centrale quindi non esiste che il contratto è centrale politicamente e che sistematicamente come diceva prima Giovanni ci debba essere flessibilità nei gruppi perché flessibilità nei gruppi per come la vuole Abbi significa anarchia significa aderoga al contratto nazionale oltre quello che già avviene quindi questa è la notizia positiva che sul tema del rapporto fra primo e secondo livello abbiamo le idee estremamente chiare la notizia non positiva ma ve la dico per subito da parlare così è che non ha senso non ha senso e qui voi siete sindacalisti di base siete la nostra spina dorsale ad ogni livello non ha senso che mettiamo in piedi un contratto nazionale di un certo tipo e poi i coordinamenti tutti dalla prima all'ultima sigla dei gruppi facciano più o meno a gara per rimetterlo in discussione noi possiamo fare il contratto nazionale più bello del mondo ma poi i coordinamenti dei gruppi lo devono assolutamente rispettare è una battaglia questa iniziata con Agostino che proseguirà con Giuliano proseguirà sia con la FISA che con la stessa CGL è chiaro che per noi diventa fondamentale fare un contratto e poi farlo rispettare ma per farlo rispettare devono essere i coordinamenti a farlo rispettare grazie grazie quindi passiamo la parola segretario generale Calcagni lo stesso tema incontri a fine mese sul contratto quali sono appunto i punti cruciali secondo voi io intanto ringrazio i nostri ospiti ringrazio il segretario generale della Fabbi ho ascoltato parole condivisibili da parte da parte sua sono ormai qualche mese che le dinamiche contrattuali ci vedono diciamo protagonisti delle cose che lui ricordava anche insieme insieme a tutta la Fabbia tutta la Fisac dove cerchiamo come dire di calare le informazioni lo stato trattativo a tutto il corpo del sindacato però io la prima cosa che vorrei dire c'è stato un accenno alle crisi bancarie e qui abbiamo la questione del Monte Paschi adesso io non so quali saranno i tempi della autorità pubblica nell'immissione di questa azienda nel mercato io a scanso di equivici dico che noi non accetteremo il spezzatino di questa azienda che questa è un'azienda che è un patrimonio non solo della Toscana ma del paese va rilanciata vedo che sia le lavoratrici e i lavoratori del Monte Paschi e anche il suo amministratore delegato e fatemelo dire anche la Fisac la Fabbi le altre organizzazioni sindacali hanno dato il loro contributo mi pare di capire che la gestione ordinaria sia tornata in attivo si tratta di capire come come si riesca a perdere ancora un po' di zavorra in relazione ai crediti incagliati però ecco volevo dire che questa azienda noi come Fisac come CGL non accetteremo una logica di di spezzatino di tagli di questa azienda una delle più grandi aziende più antiche aziende del paese per quanto riguarda il credito però io prima di addentrarmi sul contratto una battuta la vorrei fare e questa ad Abbi e agli interrogatori guardate che dopo il contratto se riusciremo a farlo rispetto ai nuovi operatori legati all'innovazione ecologica mi riferisco a Amazon Google e quant'altro io penso che il sistema che il sistema dovrebbe fare una riflessione e cioè quella di fare sistema rispetto al legislatore perché non è possibile che aziende al di là se sono internazionali fanno banca senza sottostare ai regolamenti ai controlli della Banca d'Italia non lo faccio solo per una questione di legittima concorrenza o illegittima concorrenza faccio una questione legata alla legalità perché vuoi o non vuoi i controlli effettuati sulle aziende di credito rispetto alla Banca d'Italia Commissione Europea tendono a rimanere nel rispetto delle regole anzi abbiamo avuto anche di fronte a a qualche volta a elementi come dire intrusivi e ci si mette intrusivi da parte del regolatore episodi che insomma gli ultimi anni ce le hanno ce le hanno fatte vedere di tutti i colori quindi io penso che il sistema si dovrebbe interrogare per il sistema intendo organizzazioni sindacali e abbi di svolgere un'operazione un'opera rispetto al legislatore perché tutti gli attori che si occupano di intermediare e credito siano sottoposti alle stesse regole e ai stessi controlli a prescindere da dove sono le loro sedi sociali sul contratto io parto da una riflessione più di fondo penso che il mondo del lavoro negli ultimi vent'anni è stato impoverito di salario e diritti e penso che un segretario della FISAC CGL della CGL insieme insieme ad altri deve lavorare oggi qui ed ora per le responsabilità che ha per implementare diritti e salario perché sono stanco di sindacalisti uomini politici che dichiarano e poi non si realizzano io penso semplicemente che bisogna partire dal salario guardate quando noi parliamo del salario non parliamo solo banalmente dell'unimento economico ma parliamo della dignità di chi lavora che ha diritto ad avere una giusta paga è una dignità che ha stesso lavoro stessa paga quindi in questa tornata contrattuale noi chiediamo l'abolizione del salario d'ingresso per i giovani perché anche questa mattina venendo qui e leggendo i giornali e vedere che le indagini demoscopiche segnalano che i nostri ragazzi dai 18 ai 34 anni non hanno fiducia nel loro paese chiama a tutti noi che ormai hanno qualche stagione in più sulle spalle a un senso di responsabilità e di autocritica rispetto alle politiche alla politica e anche alle politiche sindacali che hanno scaricato sui più giovani contraddizioni non risolte quindi io penso che oggi qui e ora per quanto ci riguarda noi chiederemo abbiamo chiesto un aumento contrattuale che rafforza i diritti in quel senso lì abbiamo chiesto come organizzazioni sindacali e devo dirlo senza piageria che i più determinati nel richiedere la reintegra e i nuovi diritti è la FAB e la CGL a quel tavolo e va detto per quello che è senza elementi di divisione ma la verità è questa io ho contato dal segretario generale della FAB sei o sette interventi a sostegno della reintegra e dell'articolo 18 io ne ho fatti nove altri molto più caghetti nel sostenere e questo va detto ma non va detto perché è un elemento di contrapposizione va raccontato perché è successo poi parlavamo delle questioni legate alla innovazione tecnologica bene se non si vuole usare la innovazione tecnologica contro il mondo del lavoro noi in piattaforma abbiamo chiesto il diritto alla disconnessione ecco io penso che dai convegni dove in maniera più o meno forbita decliniamo tutti una certa sensibilità rispetto al mondo del lavoro bisogna scendere e sporcarsi le mani io penso che un elemento forte di questa piattaforma è legato vecchi diritti a nuovi diritti e l'elemento della disconnessione tecnologica è un elemento qualificante e anche risarcitorio rispetto al nostro personale perché le banche oggi e lo dico con molto rispetto di Giovanni persona sensibile e attenta a queste dinamiche le oggi le banche hanno un problema io lo chiamerei tramutandolo hanno un problema di consenso sociale nel paese e invece di finanziare ad esempio invece di finanziare tutte le squadre di serie B del mondo del calcio no? ma perché non si fa una riflessione vera per quanto riguarda il mezzogiorno anche come elemento risarcitorio e di recupero di credibilità noi abbiamo fatto delle analisi e vediamo che il saldo fra raccolta e impieghi è un saldo attivo è mai possibile che rispetto a veicoli finanziari che investono sulle infrastrutture materiali e immateriali e fatemi dire anche infrastrutture sociali perché è uno scandalo che uno da cosenza deve andarsi a far curare a Milano allora le banche che detengono il risparmio molto risparmio privato questa mattina penso che sui conti correnti ci siano oltre mille miliardi di euro liquidi è mai possibile che una quota di questi denari non possa essere investita a sostegno dello sviluppo e occupazione ma che società costruiamo se i nostri ragazzi e non lo dico in termini retorici lo dico in termini concreti neanche solo ridistici lo dico in termini egoistici abbiamo due problemi recuperare sicurezza sociale per quanto riguarda il mondo del lavoro e una società che invecchia che di per sé è impaurita costruire strutture che diminuiscono questa insicurezza sociale io penso che il patrimonio del risparmio italiano che è uno dei veri petroli del nostro paese anche se le banche hanno fatto di tutto per maltrattarlo negli ultimi anni debba essere il protagonista del rilancio del paese però abbiamo necessità di un gruppo dirigente delle banche che dichiari di meno l'interesse nazionale e lo pratichi un po' di più io penso che siamo di fronte a questa scelta e quando Lando diceva guardate che questo contratto guarda anche alla clientela io toglierei l'anche per noi un contratto che dia tutele alle lavoratrici e ai lavoratori tutela il risparmio perché i lavoratori sottoposti a mobilità a incertezza a insicurezza sul loro futuro hanno sono incentivati a prestare meno attenzione all'esigenza dalle clientele ecco io penso che sono queste le questioni le questioni vere ho visto che Abbi insiste sugli inquadramenti io penso che sugli inquadramenti non può essere un'operazione che Abbi immagina per risparmiare sul costo del lavoro perché una proposta che è stata avanzata come tutti voi sapete da passare da 13 a 6 inquadramenti è solo un'operazione che sottintende il taglio del costo del lavoro io penso che va rifiutata semplicemente e vorrei che la controparte comprendesse che la stagione dei sacrifici dei tagli del senso diciamo così di farsi carico della complessità è finito perché in questa in questa crisi lunga crisi che ha colpito il sistema del credito che ha determinato la fuoriuscita di 70.000 persone in carne ed ossa non ci siamo impavoriti tutti alla stessa maniera io penso che c'è chi sia impavorito impoverito come il mondo del lavoro perdendo posti di lavoro e battendo il passo per quanto riguarda gli aumenti salariali ci sono due elementi nel sistema che si sono arricchiti gli azionisti e gli amministratori delegati ecco io vorrei che su queste questioni su queste questioni ci sia senso di responsabilità e penso che la forbice che va da 25.000 euro lordi a 4 o 5 milioni euro l'anno va raccorciata questo è il punto che abbiamo posto con forza in Abbi e vedremo se elementi di cambiamento rispetto a queste cose ci saranno perché non è una questione una questione diciamo marginale è fondamentale recuperare un senso di giustizia e trasmettere un certo elemento di equilibrio anche nel contratto nazionale è un modo per le banche di recuperare credibilità all'interno di questo paese ecco al segretario colla chiederei allargando anche un attimo la prospettiva uno dei temi citati da quasi tutti gli intervenuti e che ha una rilevanza anche al di fuori del sistema bancario perché ha ricadute sulla clientela è quello delle pressioni commerciali appunto una cosa che lega gli operatori del sistema bancario con la clientela con i risparmiatori e quindi in generale con la cittadinanza e i lavoratori tutti quanto è cruciale dal vostro punto di vista e quale può essere l'impostazione per arrivare a una soluzione sostenibile da questo punto di vista grazie dell'invito ai compagni e le compagne della FISEC di questa bella iniziativa e la qualità anche degli interlocutori ma proviamo a creare anche un po' di contesto sul contratto sono d'accordo con Sileoni Calcagno visto che il direttore prendeva appunti quindi è di buon auspicio il contesto però è un contesto di questa natura io penso che dobbiamo recuperare in CGL l'importanza della cultura finanziaria per la tenuta del paese non è grave è che noi arriviamo da una cultura che guardava molto prima gli aspetti chiamiamoli così industriali rispetto a il sistema della finanza per fare investimenti per la tenuta stessa di quel sistema industriale guardate quei 150 tavoli che abbiamo al ministero dello sviluppo tutti tutte quelle crisi hanno due problemi uno la tenuta della finanza due il cambio di produzione soprattutto legato ai costi dell'energia quindi stiamo parlando di due fotografie nette ai tavoli che abbiamo di crisi anzi alcune crisi diciamo così quelle imprese sono i titolari sono le banche e quindi la decisione della banca può decidere di far vivere o di non far vivere quelle imprese e in questo scenario se noi la guardiamo nel nostro contesto diciamoci la verità lo dico a questo settore qui abbiamo delegati delegati bene che ci diciamo anche delle verità io penso che la ristrutturazione e il cosa sta arrivando in questo sistema sia agli inizi non alla fine di una traiettoria se guarda il contesto geopolitico se guardo la tecnologia se guardo le regole che prima venivano dette anche dal direttore ad esempio nel sistema europeo lo tsunami è all'inizio non è alla fine lo dico perché un sistema bancario finanziario che opera in un paese dove abbiamo un problema abbiamo un paese che ha prodotti interno lordo piatto quando cresce cresce meno degli altri abbiamo un autoavvitamento che lo dico perché il debito è un problema dobbiamo abituarci anche a dire che il debito è un problema uno perché non l'ha fatto la gente che lavora e quindi è bene dire che il debito è un problema e in questo debito cosa sta avvenendo però che abbiamo una polarizzazione nonostante la crisi della ricchezza incrementa il debito e si polarizza la ricchezza su pochi soggetti privati molto sempre gli stessi si continua a polarizzare e dall'altra parte questo paese è come se avesse un fatto ordinario di 200 miliardi poi se aggiungo quelli dell'illegalità arriviamo a 350 miliardi tra evasione e illegalità se ci pensate noi abbiamo un debito che cresce finanzia quella roba lì non ci possiamo permettere di reggere alla lunga con la traiettoria di questa portata che è la discussione che come Cigella e Cisuglia abbiamo fatto anche il governo cambia questa traiettoria iniziamo a avere una vision sugli investimenti e aggredire questo trittico altrimenti questo paese l'autoavvitamento continuerà e in questo scenario io vedo come dire un punto abbiamo qui Calcagni diceva un passaggio siamo uno stato povero e una concentrazione della ricchezza e di risparmio che nessuno ha in Europa c'è qualcosa che non va abbiamo 1300 miliardi sui conti correnti è il prodotto interno lordo della Spagna noi però se vogliamo far uscire quei soldi ai conti correnti dobbiamo avere un'idea di un paese che ritorna avere una reputazione che l'investimento paziente inizia a essere un investimento a cultura di tutti noi altrimenti quei 1300 miliardi restano lì e quando parliamo di reputazione noi parliamo di una reputazione paese che non può essere dov'è il vuoto della politica da una parte non è più in grado di redistribuire e fare la grande mediazione dall'altra parte non è più in grado di progettare il paese dal punto di vista della tradizione degli investimenti e fa un'operazione finanziaria a pioggia molto spesso per la propria campagna elettorale a destra e a sinistra potrei dire voglio dire gli sgravi lineari a tutti permettetemi adesso qui ce lo posso dire io sono di quelli quota 100 faccio sindacalista dico che va bene ma diciamoci la verità non era quella la priorità del paese e come re di cittadinanza ci mancherebbe la povertà cioè ma quello è lo sgocciolamento di Friedman non tocco vuol dire le vere ricchezze e faccio lo sgocciolamento con un problema che sia quota 100 che re di cittadinanza non crea un posto di lavoro e siccome noi vedo in sala una cultura progressista di sinistra e siccome noi abbiamo l'altro grande problema che diventiamo tutti anfetaminici quando i dati Istat si muovono di decimali cresce anche noi tutti anfetaminici in realtà abbiamo un problema anche qui noi dobbiamo guardare l'occupazione di questo paese perché senza occupazione non salviamo nemmeno le banche la redditività delle banche sì possiamo concentrare quella ricchezza che resta ferma ma se non incrementa l'occupazione in questo paese l'autoavvitamento arriva anche al sistema finanziario e noi abbiamo che l'occupazione di questo paese è 10% sotto rispetto all'occupazione media in Europa sono 3 milioni di lavoratori quindi cosa c'entra vuol dire dicono che sono incrementato un po' gli occupati ma una cultura progressista dovrebbe guardare che occupati che condizioni di lavoro perché noi dentro la crisi abbiamo perso un milione di posti di lavoro e 600 mila no adesso non applaudite più perché altrimenti perdo il filo 600 mila erano nel settore della filiera edile che è un grande settore di investimento interno a grande drenaggio di lavoro o parte quel settore o altrimenti non è che tutti qui vogliono vendere ad altri e l'Europa deve riconquistare l'idea che è un grande mercato interno altrimenti se tutti vogliono vendere agli altri si va a default al primo stornir di fronte in cui c'è la planata arrivi che non ce la fai più e in quell'occupazione quella sta succedendo che noi abbiamo un miliardo ottocento milioni di ore in meno lavorate non ho sbagliato il dato un miliardo ottocento milioni in meno di ore lavorate che sono un milione di lavoratori in meno che vuol dire che se un lavoratore fa quattro ore la settimana per gli indagini divento un lavoratore dipendente anche se lavoro in banca e quindi cosa c'entra se io lavoro quattro ore sono un disperato e quindi cosa gliene importa quello tra la mediazione della finanza e la mia condizione io ho bisogno di recuperare una cultura che è un'Europa iniziamo ovvero un'Europa che è in grado di darsi delle regole per la tenuta del suo sistema finanziario perché diciamoci una verità abbiamo un'Europa che è diventato il grande paradiso fiscale noi abbiamo questi soggetti che depositano una ragione sociale in Irlanda in Luxemburg in Olanda Apple mette una ragione sociale in Irlanda paga lo 0,5% sugli utili quando il lavoro è tassato il 30-35% medio e se io non sono in grado la politica dov'è che è sotto tutta perché non è in grado di andare a prendere quella ricchezza ridistribuirla e fare la nuova grande mediazione per essere in grado di supportare il grande cambiamento tecnologico quella è la mediazione prendere quelle risorse mettere dentro le figure che non ce la fanno la mediazione creare un nuovo welfare quella è stata la più grande operazione politica in Europa la mediazione tra capitale e lavoro e ci ho messo il welfare ci ho messo il sapere l'istruzione ci ho messo la sanità ci ho messo la tenuta nel momento del bisogno e siccome siamo nell'economia della conoscenza se io non sono in grado di prendere quella ricchezza e di non far sì che i più deboli entrano dentro nel sapere e la conoscenza diventa per gestire la tecnologia un'idea di massa culturale politica per l'Europa questa è la novità e in questo scenario permettetemi perché vi ho detto turbolenza leggevo ieri l'articolo mi dicono i cinesi stanno arrivando o i cinesi sono già qua da un bel po' leggo vuol dire l'articolo dell'altro giorno quel Zipin che non ha il problema del doppio mandato come noi l'hanno eletto a vita perché quelli lì sono comunisti la programmazione la sanno fare nel tempo e cosa hanno deciso qui il sistema bancario lo sa hanno deciso che dal primo gennaio del 2020 partono con la criptovaluta con la blockchain e quelle lì se io prendo le cinque più grandi banche del mondo sono le loro la prima banca capitalizza 4 mila miliardi di dollari unicredite e banche intese ne fanno non ne fanno 1200 tutte e due insieme e le prime cinque fanno 20 mila miliardi di dollari e questi qua stanno entrando in Europa perché ovviamente prendo un paura da un pazzo che ha iniziato a far uscire i dazzi dai libri di scuola quel trampli 345 miliardi di dazzi e quei cinesi lì cosa hanno fatto quando hanno visto i dazzi la prima cosa hanno fatto non ti prendono le granaglie non ti prendono inizio non prendo i titoli a te americani a quel punto è diventato un po' più mordigo con un problema che quei dazzi li ha lasciati sulle filiere europee prendete data il 24 novembre se quel matto lì lascia il 25% di dazzi sul sistema delle auto 25% di dazzi sul sistema delle auto è evidente cosa succede al sistema manifatturiero non del mio paese di tutta l'Europa e siccome noi siamo un paese che non abbiamo materie prima e siamo un paese di genialità nel produrre nel consegnare agli altri siamo un paese di grande capacità nella sua fornitura se arrivano quei dazzi altro che padroni a casa nostra chiudono le nostre imprese al nord e al sud ma padroni a casa nostra smontiamo quella cultura di padroni a casa nostra noi siamo un paese che ha bisogno degli altri ha bisogno che funzioni l'Europa abbiamo bisogno di stare in rete abbiamo bisogno di stare col mondo altrimenti non ce la facciamo e abbiamo bisogno di attrarre investimenti non di essere colonizzati dagli investimenti una filiera strategica come l'agroalimentare l'un terzo di Lactalis la moda l'un terzo di Louis Vuitton adesso abbiamo lo scontro con l'ILVA ma dove erano gli imprenditori italiani che riuscivano a salvare l'ILVA non c'erano siamo dovuti andare dagli indiani e quindi i barconi non vanno bene gli indiani però vanno bene se avvengono a fare investimenti c'è qualcosa che non va e in questo scenario se io prendo questa discussione la porto e la piego rispetto a cosa sta succedendo non ho bisogno di dire voi ci sono due acronomi prendetevi GAFA e BAT sembrano due GAFA e Google Amazon Facebook e Apple lo dico al direttore oi quelli si sono adesso stanno arrivando Amazon prende si fa banca prende una ragione sociale in Irlanda gliela danno ovviamente perché là figurati gli danno tutto quello che voglio siamo in Europa quindi quando lei direttore diceva le regole sono proprio d'accordo non regge un'Europa dove diventa l'Europa liberista del dumping sulla finanza perché arriva nel processo produttivo e il più grande dumping che non è in grado di governare l'Europa è proprio il dumping finanziario Amazon si fa una banca ma cosa devono fare questi qua oltre che avere una concentrazione di dati leggetevi un bellissimo libro si chiama i signori del silicio questi qua stanno governando il mondo perché ci profilano tutti siamo tutti profilati nelle nostre nella nostra testa nelle condizioni e sono in grado di vendere prodotti commerciali tutti e vendono anche prodotti bancari se quelli lì iniziano a fare banca ma vanno fermati perché non possono fare tutti le banche le devono fare le banche le assicurazioni le devono fare le assicurazioni non può essere che piattaforme digitali vendono di tutto non è un paese e in questo scenario la stessa cosa Baidu Alibaba Tencent questi ormai uno scontro tra piattaforme tra l'America Silicon Valley e questi soggetti e noi permettetemi sciamoli in mezzo l'Europa un vaso di coccio al posto di essere il soggetto in grado di regolare di ripristinare la grande mediazione poi io critico l'Europa ma gli voglio molto bene perché è ancora il perimetro più democratico al mondo teniamoci questa Europa anzi io vorrei una grande mediazione politica e sociale il sindacato europeo deve vedere che l'Europa per farla reggere ha bisogno di far reggere e di togliere i dumping in una grande alleanza progressista e sociale anche il sindacato europeo ha bisogno di svegliarsi di non essere più un sindacato emendativo ma di essere un sindacato contrattuale altrimenti i contratti che noi facciamo qua vanno in default dal punto di vista della possibilità oggettiva e in questo scenario il mio paese guardate Maurizio fa bene quando dice Maurizio Landini quando dice avremmo bisogno di andare a prendere quella ricchezza lui si spinge fino alla patrimoniale ho detto guarda Maurizio sono d'accordo con te non te la daranno mai se lo dice Modiano Amato e Ciocca sono ovviamente luminari se lo dice Maurizio Landini diventa blasfemo c'è qualcosa che non va in questo paese ma ha ragione lui il problema è che non ci riusciamo ma c'è già una patrimoniale che se noi non reggiamo con la reputazione del nostro paese nei prossimi anni la vera patrimoniale si chiama spread a quelle lì non gliene frega niente di Renzi di Di Maio non gliene frega niente di Su quelli lì partono e fanno speculazione finanziaria e se noi non abbiamo una tenuta di reputazione del paese se quello spread parte è evidente cosa succede anzi una delle possibilità di aver fatto una manovra così è perché lo spread è diminuito e abbiamo recuperato miliardi e lo spread alla vela patrimoniale voi mi insegnate sui mutui della povera gente sulle imprese siccome abbiamo una morfologia di piccole imprese hanno bisogno di capitale sono banche centriche perché dentro la crisi il 25% di manifatturiera che abbiamo perso erano piccole imprese sottocapitalizzate in mano alle banche in questo scenario ho finito il mio paese deve riscoprire io penso così come stiamo discutendo in Cigelle quasi una cultura obaniana se io parlo di Monte dei Paschi di Siena noi non ci possiamo permettere di perdere le nostre banche e quindi il tema non è di essere tutto pubblico marxista tutto privato il tema è di riscoprire una nuova identità dove il pubblico sia in grado di accompagnare fuori dalla crisi i soggetti e poi recuperare quelle risorse così come ha fatto Obama in America ma dobbiamo copiare non imparare vuol dire cose nuove copiamo alcuni processi che hanno funzionato e quindi anche con Monte dei Paschi con calma non facciamo precipitare le discussioni perché lì c'è persone c'è identità c'è storia c'è una banca importante e permettetemi non facciamo errori di consegnare gratis delle cose non facciamo questi errori perché sono sempre soldi pubblici e quindi preferisco allora avere il soggetto pubblico che accompagna quando arriva un progetto industriale che abbia le gambe della serietà per il pubblico e per il privato e se questo è lo scenario abbiamo bisogno vuol dire di stare su un tratto guardate nel sistema bancario sta avvenendo qualcosa non ho bisogno di dirlo voi bisogna chiudere questo contratto da qui al 31-12 del 2020 avremo 15 milioni di lavoratori che devono fare il contratto se chiudiamo il contratto fa bene anche le banche e se non lo chiude le banche anche gli altri poi prendono un esempio negativo ma se non lo chiudono gli altri vanno le banche perché abbiamo un problema salariale state pur sicuri che se un lavoratore ha dato un po' di soldi li spende va nei consumi risparmia qualcosa va benissimo per tutti perché abbiamo di far riprendere il mercato interno 15 milioni di lavoratori hanno bisogno del contratto di cui 3 milioni pubblici in questo scenario il contratto è importante perché il contratto non è una fisima della CGL il contratto è la tenuta della coesione sociale di un paese è la storia di un paese tra diritti e doveri al presidente di Confindustria che dice c'è un problema salariale benissimo fai i contratti risolvi il problema dei contratti perché è contrattato e sancise la tenuta del nostro paese e il contratto del sistema bancario è fondamentale in questa discussione lo dico perché voi mi insegnate che è successo che ci sono 70 mila lavoratori in meno in questo settore e qui se Leoni Calcagni lo sanno lo dico il direttore oi qui però diamoci una regolata lo dico ai gruppi bancari non è che vogliamo fare il contratto della riserva indiana perché il contratto che continua a restringersi sui lavoratori a tempo indeterminato e voi le risorse le trovate nel decentramento dove dentro la crisi è schizzato il 20% di lavoratori indipendenti lavoratori autonomi che non ha paragono in Europa perché è il triplo dell'Europa non ci può essere un sistema bancario di qualità o assicurativo se non recuperiamo la filiera dell'investimento sulle persone certo che poi le dobbiamo polarizzare sui grandi investimenti tecnologici sulla conoscenza e il sapere ma facciamolo insieme facciamo un grande spostamento di questi lavoratori invece voi pensate di fare la flessibilità a prescindere in un'idea di uberizzazione del lavoro dipendente uber la cultura qual è imprenditore di te stesso ma di te stesso di cosa sei a disposizione ti arriva un input di una piattaforma digitale ci sei o non ci sei non può essere questo il valore del lavoro e ha fatto bene Maurizio ieri dirlo anche il sistema della politica il valore del lavoro è la nuova identità di un paese diamoci un'identità perché altrimenti la nostra identità è a disposizione degli altri siccome non svaluto la moneta svaluto il lavoro e svaluto i diritti e diventa un paese subordinato agli altri anche noi vogliamo bene il nostro paese grazie grazie tornerei dal direttore Sabatini chiedendo se è possibile di limitare le repliche nonostante la mole di carne al fuoco che sia sicuramente notevole e ho sintetizzato alcuni degli spunti arrivati dagli interventi dagli ultimi interventi un tema su cui direi che siete tutti d'accordo è quello delle regole chi fa banca deve essere assoggettato alle regole delle banche qui il nome sul mercato nazionale credo sia quello di poste il principale che ho sentito anche il presidente Patuelli citarlo esplicitamente le poste fanno banca ma non sono soggette alle regole delle banche quindi cosa si può fare si può fare un'azione di sistema qui anche se non vi piace il termine sistema per fare pressione sulla politica e alcuni degli altri spunti arrivati direi i salari la forbice tra il bancario appena entrato e l'amministratura delegato aumenta tutti gli studi dicono che aumenta non solo nelle banche naturalmente rispetto anni fa può essere una cosa positiva anche per voi aumentare i salari e ridurre questa forbice favorisce forse anche l'immagine delle banche quindi la reputazione del sistema bancario il saldo raccolta impieghi che ha citato il segretario Calcagni è vero io ho studiato ho visto tutte le trimestrali delle banche la raccolta aumenta molto gli impieghi quando aumentano aumentano meno quindi il saldo sicuramente aumenta certo un'iniziativa di sistema di cui parlava il segretario Calcagni ha bisogno di un coordinamento probabilmente politico sotto un'egida governativa ma le banche cosa possono fare possono favorire la mobilità di questo saldo positivo di depositi che rimane nei loro bilanci e ultima spunto forse un po' provocatorio quindi voi non volete essere sistema come dicevano alcuni degli intervenuti perché così poi fate il contratto nazionale ma poi i gruppi lo smontano a livello locale è questo il trucco grazie intanto grazie e rinnovo il ringraziamento per essere stato invitato qui perché si diceva mentre parlavano i colleghi gli amici Lando Giuliano e soprattutto il segretario Colla ho preso appunti perché non si smette mai di imparare e devo dire queste sono occasioni dove anche dove abbiamo divergenze su alcuni aspetti il confronto è fondamentale quindi sono veramente contento di aver fatto cinque pagine di appunti Certamente ma la cosa fondamentale ecco io credo che oggi possiamo dire che pur nella diversità delle opinioni e che articoleremo e che saranno poi anche alla base del confronto almeno condividiamo dei valori condividiamo un piano di riflessione perché se non condividessimo nemmeno il piano allora avremmo veramente un problema e il primo punto non riprendo subito gli argomenti su cui veramente mi sento assolutamente in linea con quello che diceva Vincenzo Colla atteniamoci questa Europa lavoriamo per migliorarla ma al di fuori dell'Europa non ci sono prospettive di crescita di occupazione per i nostri figli perché poi oggi costruiamo le premesse per i nostri figli soprattutto e ahimè questo è qualcosa che ogni tanto si perde ahimè l'Europa ha perso una grande opportunità lo dicevamo prima di iniziare questo dibattito nel momento in cui non ha approvato una costituzione europea e di fatto ha trasferito diciamo una primazia al rapporto degli stati quindi oggi l'Europa continua a essere basata sugli accordi intergovernativi alla fine è il consiglio che dà l'indirizzo e non commissione e parlamento e questo ahimè ha rallentato se non ha fermato lo sviluppo dell'Europa e quindi credo che una prima riflessione sia cosa possiamo fare per rimettere in moto questo processo di miglioramento della costruzione europea e qui credo che ci siano degli spunti e sono assolutamente d'accordo che una riflessione congiunta al di là del contratto su come rappresentare alle istituzioni europee la necessità di ripensare non dico modificare le regole o ridurre le regole le regole nel settore finanziario sono fondamentali sono il primo anche per aver lavorato tanti anni con Pado Schioppa e nelle istituzioni che il settore finanziario deve essere regolato deve avere delle regole importanti e l'unione bancaria è stato nonostante tutti i limiti a cui ho accennato la miglior risposta alla crisi finanziaria che ha dato l'Europa però le regole bisogna anche contestualizzarle oggi viviamo una fase completamente nuova e occorre che le regole vengano attualizzate non sono le tavole di Mosè e su questo benvenga un lavoro comune in Europa per riflettere su come garantire la vera applicazione del principio a cui si rifaceva riferimento stesse attività stessi rischi stesse regole abbandonando il concetto a chi ha un'etichetta banca deve essere regolato in un modo e chi è finte con un'altra cosa un'altra regola se svolgiamo tutti la stessa attività se portiamo tutti gli stessi rischi dobbiamo avere le stesse regole e questo è fondamentale il secondo tema è anche quello delle regole sul settore bancario oggi fare credito soprattutto alle piccole e piccolissime imprese se consideriamo tutta la quantità di regole che sono state approvate o sono in corso di approvazione e penso alla finalizzazione del quadro di accordi di Basilea il tema è chi finanzierà le piccole e piccolissime imprese che comunque avranno bisogno del canale bancario per essere finanziate e quindi una maggiore riflessione su come modificare o aggiornare le regole perché comunque le banche possano continuare ad essere vicine a imprese e famiglie soprattutto nei momenti di difficoltà perché il rischio è che le regole siano procicliche e quindi a fronte di una situazione come l'attuale che vede un forte rallentamento e dove da una parte abbiamo una politica monetaria che vuole evitare che questo rallentamento possa scivolare in recessione ecco abbiamo dall'altro lato altre due leve una politica fiscale degli stati che ahimè ancora non si mette in linea con le politiche monetarie questo lo ha ricordato bene Draghi nelle ultime sue conferenze e quindi che gli stati che hanno spazi di bilancio comincino a usarli per evitare la recessione ma soprattutto c'è anche una terza leva la leva regolamentare come dicevo oggi questo livello di tassi con questo sistema di regole crea degli incentivi a non fare credito e questo non aiuta l'economia quindi questi concetti e quindi al di là del contratto se li portiamo insieme in Europa ben venga perché è una riflessione che fa bene all'Europa che fa bene all'economia che fa bene alla crescita e all'occupazione quindi su questo e su questo ci metto anche sicuramente il discorso del mezzogiorno il mezzogiorno è una grande opportunità che l'Italia finora ha sprecato io sono un meridionale anche se sono abruzzese quindi nella logica di quel bellissimo film i soliti ignoti un meridionale del nord come diceva Ferribot però mi sento meridionale e credo che il mezzogiorno sia una grande opportunità e anche su questo una riflessione e quindi più in generale come canalizzare il risparmio verso impieghi produttivi è un altro tema fondamentale è assolutamente vero che oggi abbiamo ma lo osserviamo nelle statistiche che pubblichiamo mensilmente i depositi aumentano ma non si trasformano in impieghi produttivi e in impieghi produttivi per il paese questo è un tema ahimè con uno degli strumenti che si è bloccato era quello dei PIR che comunque poteva portare dei vantaggi è uno dei temi che abbiamo anche riportato all'attenzione del governo con questa legge di bilancio ma comunque lì c'è sicuramente un tema un tema che si ricollega anche e vengo a un altro aspetto la fiducia finché non ritorna un clima di fiducia è chiaro che nessuno investe non investono le imprese non investono i risparmiatori i loro risparmi e questo blocca il paese in questo contesto non l'avevo dimenticato lo avevo messo nel capitolo fiducia ma sono assolutamente d'accordo il tema del rapporto banche clienti come recuperare la fiducia ahimè compromessa da episodi gravi di mala gestio è un tema che fa parte di questo contratto credo che lo sforzo che abbiamo fatto sull'accordo delle politiche commerciali insieme è stato un elemento importante e devo dire nei miei diversi ruoli in Europa l'ho portato avanti come un grande esempio da tradurre anche in un modello europeo perché credo che quell'accordo che fissa dei valori fondamentali che sono quelli del rispetto delle persone della dignità delle persone dell'integrità della trasparenza sono valori fondamentali ma alla base del successo delle imprese e di questo ne sono convinto e quindi benvenga e farà parte della negoziazione ma incorporare come abbiamo detto l'accordo nel contratto è sicuramente una cosa importante che farà bene alle banche ne sono convinto questo lo abbiamo detto insieme anche con il presidente quell'accordo è stato un momento importante in cui abbiamo condiviso un percorso che serve a rilanciare anche sotto un profilo della sostenibilità economica le banche perché quell'accordo che definisce anche una serie di impegni per le banche di disegnare politiche commerciali compatibili con quei valori e con quei principi che sono definiti nell'accordo è importante quindi sono assolutamente convinto che se non era chiaro lo dico ora che rispetto ai temi della sostenibilità economica per le imprese sostenibilità per le persone sicuramente anche sostenibilità nel rapporto con la clientela è sicuramente un elemento che deve essere parte di questo rinnovo quindi questo è sicuramente un aspetto importante poi non entro in altri aspetti su cui a cominciare anche da quello economico perché la trattativa la faremo al tavolo abbiamo delle visioni abbiamo una volontà comune credo che questo sia ma lo ha riconosciuto Lando lo ha riconosciuto Giuliano abbiamo una volontà comune di concludere il contratto e attribuiamo al contratto una grande importanza non ritengo assolutamente giusto che quando parliamo di contrattazione del primo e del secondo livello il secondo livello deve rappresentare l'anarchia assolutamente no su questo quindi abbiamo un diverso modo ma sarà oggetto del confronto di valutare cosa significa e cosa deve stare nel secondo livello di contrattazione per rispettare da un lato il quadro generale delle regole quindi non stravolgerlo ma allo stesso tempo consentire l'attuazione a livello di singolo organizzazione produttiva di quei principi generali ma questo sarà appunto oggetto di contrattazione quindi devo dire però di nuovo scusate forse io sono non voglio usare la parola ottimista ma secondo me voglio essere realista io credo che abbiamo gli strumenti concettuali la condivisione di valori che possono portare alla conclusione di un contratto che sia sostenibile e adeguato ai tempi e chiudo se abbiamo chiuso ma questa tavola rotonda con un rafforzamento di questa di questa convinzione e credo anche e ringrazio anche per le attestazioni personali che però rappresentano anche che effettivamente c'è l'indirizzo la la direzione che stiamo percorrendo è quella giusta grazie signori lei è ottimista? allora io volevo sì sono ottimista nel senso come la pubblicità allora gli spunti e le riflessioni che hanno portato le considerazioni di Vincenzo Colla sono innumerevoli perché è entrato come dire nella parte politica più importante economica e finanziaria non solo dell'Europa ma di come gira la finanza nel mondo rispetto a quello che ha detto Vincenzo Colla io vorrei sottolineare partendo proprio da quella riferizione quattro aspetti Vincenzo il primo siamo solo all'inizio di un tsunami e non alla fine verissimo verissimo perché innovazione tecnologica le banche non le hanno fatte al di là delle dichiarazioni di facciata che fanno verissimo fanno le operazioni il Fintec sarà un'innovazione puramente di facciata voi ve le immaginate i consigli di amministrazione i direttori generali i consigli di gestione delle banche che decidono l'affidamento dell'impresa o del grande cliente sulla base di requisiti e di criteri immessi in un'app quindi se così fosse perderebbero tutto il loro potere contrattuale questo non avverrà mai il Fintec varrà il Fintec varrà che la mucca da mungere oggi di chi fa affari con le banche e la mucca da mungere oggi di chi fa affari con le banche varrà esclusivamente per quelle piccole imprese per le persone individuali che chiedono fino a 20 30 mila euro lì ci saranno delle regole restringenti che passeranno attraverso una grande app interna e praticamente il direttore di agenzia avrà meno possibilità di erogare credito rispetto a quello che eroga oggi perché siamo solo all'inizio dello tsunami perché quando interverranno sulla spinta anche competitiva di Amazon di Google e quant'altro quando le banche veramente dovranno mettere le mani nei portafogli e gestire investire in innovazioni tecnologiche lì avremo raschiato il barile fino in fondo sul tema dei requisiti dei criteri per andare volontariamente sul fondo sul nostro fondo di settore che è il fondo Superi allora il problema principale rispetto a quello che sta accadendo in Italia e lo diceva brillantemente prima Vincenzo che noi abbiamo una BCE io semplifico vivo ad Orvieto sembro romano ma vivo ad Orvieto semplifico un po' alla romana abbiamo una BCE che non guarda in faccia nessuno apparentemente ma che ha un occhio di riguardo per alcune nazioni del nord Europa e quando noi vediamo che contemporaneamente ha quest'occhio di riguardo che è palpabile lo sentiamo lo avvertiamo tutti i giorni e lo avverte anche Giovanni Sabatino il presidente dell'ABI che hanno quotidianamente rapporti con loro ma che non lo potranno dire per ruolo istituzionale che ricoprono quando noi abbiamo quando noi avvertiamo questa sensazione diventa una realtà quando il 3 dicembre di quest'anno l'amministratore delegato di Unicredit Mustier dichiarerà 10.000 suberi che ha fatto già trapelare con la solida agenzia internazionale che si presta a giochini di questo genere e che avvengono puntualmente quando Unicredit parla di esuberi non è il problema diceva prima giustamente bene Vincenzo cioè diventiamo una riserva indiana non è il problema tanto i lavoratori vanno in fondo finché c'è il fondo finché ci sono i soldi sul fondo vanno volontariamente sul fondo e ci vanno molto volentieri non è solo il problema questo il problema è che da 200 eravamo 330.000 in 4 anni siamo diventati 288.000 oggi e mentre vanno siamo 285.000 poi ci saranno la stagione delle aggregazioni ci saranno il piano industriale di Unicredit e arriveremo ad una riserva indiana e ha ragione perfettamente perché ha colto il punto ha colto e l'altro punto politico strategico è che l'ha detto è che la BCE è la BCE che fa la politica in Europa e in Italia è la banca centrale europea quella che muove grandi capitali allora in questo contesto come ci possiamo noi come organizzazioni sindacali confrontare come possiamo ottenere dei risultati per il settore e per i lavoratori che noi appunto rappresentiamo allora intanto ci dobbiamo difendere io vorrei entrare un attimo se me lo consentite nello specifico dichiarano 10.000 esuberi devono farne almeno la metà di assunzioni lo diceva bene prima Vincenzo quando diceva il tema dell'occupazione centrale se fai 10.000 esuberi su base volontaria ne fai 5.000 non che ne fai 1.000 e se io oggi dovessi decidere per chi parteggiare fermo restando che noi abbiamo iscritti e rappresentiamo i 288.000 lavoratori del settore ma se io devo decidere oggi per chi parteggiare parteggio per intesa piuttosto che per Unicredit perché Unicredit non per il gruppo Unicredit l'amministratore delegato di Unicredit sta lentamente sta velocemente e in maniera molto incisiva sta smobilitando dall'Italia perché ha una politica economica e finanziaria completamente diversa dai grandi gruppi bancari italiani che cosa vuole fare Mustier vuole alleggerirsi in Italia ha venduto tutti i gioielli di famiglia ha incassato il più possibile e vuole portarsi in Europa a fare una grande fusione dove conta molto di più in un ambito molto più importante e non è un caso Vincenzo che il presidente della nostra AB in Europa è Vincenzo Mustier non è un caso noi abbiamo Paduelli che è autonomo che si muove come dire veramente per gli interessi delle banche lì abbiamo un signore Mustier che oltre a dichiarare 10.000 suberi fa anche il presidente dell'AB in Europa e si interfaccia con la BCE che non parla italiano l'unica cosa di cui io da anni che conosco molto bene il settore ero d'accordo con l'ex amministratore Monti quando disse che le fusioni non se ne facevano in Italia o se ne facevano poche perché i banchieri italiani non parlavano inglese e aveva ragione per provincialismo questo è il significato ci sono state meno fusioni rispetto a quello che chiedeva la BCE ma la BCE ed ha ragione Vincenzo Golla l'ha citato pure prima Giuliano Calcagni è solo una questione di tempo allora ci dobbiamo attrezzare per arrivarci ci arriveranno ma per arrivarci con più tempo e con più respiro possibile perché se continuiamo così con noi che facciamo il contratto nazionale i gruppi che vanno per con la flessibilità di Giovanni per i propri interessi perché non è un sistema ma è un settore questo è il cappello politico di fondo noi ci troveremo peggio della riserva andiamo non fra 5-6 anni fra 2 anni e mezzo e dopo ci parleremo addosso l'altro punto fondamentale per l'esperienza e la conoscenza che ho del settore guardate che quello che è accaduto rispetto al concetto di banca locale cioè al risparmio tradito a gente che ha messo i soldi risparmi di una vita alle banche non solo non è stato come dire ricostruito un'immagine delle banche ma è stato preso a pretesto dalla banca centrale europea per andare giù con più tagli e con più determinazione contro il settore bancario italiano perché c'è un disegno dietro a tutto e il disegno è quello di semplificare il più possibile di oggi ci sono 15 grandi gruppi bancari portarlo nel giro di 4-5 anni al massimo a 3-4 gruppi allora c'è un modo per poter uscire da questa situazione prima il vostro segretario generale della CGL l'ha detto io lo vorrei ripetere perché lo sento anch'io sulla mia pelle noi dobbiamo mandare in Europa gente preparata e autonoma non quelli che si fanno pagare le campagne elettorali dalle banche noi dobbiamo mandare in Europa gente che dal punto di vista politico è la cinga di trasmissione vera di un governo che è forte e noi abbiamo un governo forte oggi obiettivamente abbiamo un governo che si può permettere agli indiani di dire no tu rimani voi pensate che la politica si fa con le procure con l'intervento della procura di Milano piuttosto che della procura di Roma io ho avuto la possibilità e la fortuna di vero che fa con Agostino Megale all'inizio che mi diceva sempre guarda che te lo ricordi non è che con le vertenze facciamo i contratti quindi a noi che cosa serve al settore bancario serve un governo forte che vada come dire che sia rappresentativo all'interno della stessa Europa e all'interno della stessa Europa serve serve personale serve gente preparata gente adeguata concludo sulla vicenda Monte dei Paschi ce ne potrebbero essere altre guardate che Paolo che è del settore Paronetto lo sa perfettamente il problema del Monte dei Paschi non è trovare l'acquirente o il venditore o quant'altro il problema del Monte dei Paschi è come superare i 3 miliardi di cause che la banca ha 3 miliardi ok quindi bisogna che il governo e noi oggi abbiamo la fortuna di avere un governo che per il nostro settore è stato determinante in quanto qualche qualche anno fa ha dato 600 milioni di euro al fondo esuberi nazionale nostro per finanziare circa 30.000 35.000 prevenzionamenti volontari cioè è intervenuto economicamente a sostegno dei lavoratori in banca e non sono stati neanche capaci purtroppo di pubblicizzarla bene questa questione e quando oggi c'è il concetto che chi si questo è il concetto malato che chi per chi sta in politica che chi parla bene delle banche o di chi lavora in banca automaticamente fa perdere consenso elettorale ed è sbagliato allora noi abbiamo avuto 600 milioni divisi in 4 anni per gestire i nostri esuberi e quindi va riconosciuto a questo governo uno sforzo di questo genere perché oggi non avremmo più eventualmente non avremmo più potuto sventolare la bandierina dell'assenza di licenziamenti in Italia senza ma magari quell'intervento così importante il monte dei paschi c'è da risolvere ecco perché serve il governo forte il problema di come superare le 3 miliardi di causa non ci saranno compratori con 3 miliardi di causa serve come stanno studiando adesso semplifico una lettera di Malleva serve qualcuna è l'equivalente allo scudo penale che dovrebbe essere speriamo da subito rientrodotto all'IVA serve una lettera di Malleva per stimolare per mettere in condizione un acquirente un eventuale acquirente perché entro il 2021 quindi entro maggio giugno del 2020 il 68,5% del tesoro dovrà passare in mano privata quindi abbiamo tutto il tempo ma serve un governo forte che non faccia l'errore che magari talvolta è stato commesso in passato di dare la banca a come dire a quelli che politicamente in quel momento la pensano in un certo modo hanno delle simpatie politiche ma serve un gruppo che possa gestire una banca importante perché lì ci sono da tutelare lo diceva benissimo prima il vostro segretario generale Colla 28.000 famiglie 28.000 grazie allora Calcagni chiedo se dopo aver sentito le risposte di Sabatini condivide il suo ottimismo su una condivisione culturale che possa favorire il raggiungimento di un contratto poi se anche lei vuole dirmi cosa vuole dire a Mustier così il 3 dicembre siamo già pronti appena presenterà le cose rispondogli per dovere di cornega dico che lui nega di voler fare una grande fusione internazionale ogni volta che glielo chiediamo quindi se me lo dice siamo già preparati grazie io penso questo ovviamente non è questione di ottimismo però penso che Lando diceva il governo la parte politica che oggi è maggioranza è debole io in realtà penso che la politica è debole sia quella strillata che quella che semina dubbi e dopo 20-25 anni di teoria che sosteneva l'inutilità dei corpi sociali se noi guardiamo un po' meglio al di là della polvere che ci gettono negli occhi tutto sommato le parti sociali organizzazioni sindacali organizzazioni teatoriali sono rimaste ammaccate ma sicuramente in piedi io penso anche perché a differenza della politica che forse ha risentito molto dell'avvento tecnologico legato alla comunicazione ma mentre l'imprenditore e il sindacalista viene votato tutti i giorni nel senso che l'imprenditore ha il problema di vendere merci il sindacalista ha il problema del consenso del giorno dopo forse sono rimasti legati alla realtà vera e per questa via secondo me c'è una grande opportunità delle parti sociali di indicare la strada in Europa e in Italia in Europa io dico solo questo fra le tante cose che si possono dire il collante in questi ultimi otto anni è stata la politica monetaria ma una comunità si può tenere in piedi con una politica monetaria o essa è un elemento essenziale di una politica economica o essa è elemento essenziale di un ordinamento fiscale uguale per tutto il continente o rispetto all'immigrazione o la politica della difesa del continente può essere così frastagliata spezzettata inconcludente quindi io penso che le parti sociali possono indicare alla politica non solo quella italiana perché io vedo una debolezza di pensiero in generale delle traiettorie per esempio io dicevo guardate che dopo il contratto anch'io mi auguro che si faccia un buon contratto la riflessione che le organizzazioni sindacali e parte sindacali dovranno fare rispetto alle think tech cioè vogliamo o non vogliamo chiedere all'Europa al Parlamento della Repubblica che ci siano le stesse regole per chi intermedia il credito penso che sia una necessità più che un elemento come dire di riflessione quindi io penso che c'è un'opportunità per le parti sociali però dobbiamo fare anche uno sforzo specialmente io vedo che il sindacato tutto anche il nostro settore è pronto a provare elementi di governo diversi rispetto al passato la domanda è questa noi veniamo dal secolo passato dove la dinamica che ha assicurato in Europa un qualche equilibrio di distribuzione è stato conflitto e la mediazione del stato sociale io la avanzo come elemento di riflessione è mai possibile che nel ventesimo secolo nel 2020 parte dell'oreale non riesca a fare una riflessione vera se è possibile in via sperimentale fare intervenire i rappresentanti del lavoro e dei lavoratori all'interno dei meccanismi decisionali perché noi parliamo di innovazione tecnologica poi sappiamo che tutto è governato dall'algoritmo magari costruito da un uomo dove all'interno di questo algoritmo 0,5 per 1000 è determinato è riferito al lavoro e tutto il resto determina una subordinazione totale del lavoro e basta guardare i rater prima Vincenzo li citava perché sono così costruttati perché lì c'è un algoritmo che dà al peso del lavoro una percentuale rispetto a 100 pari al 0,1% quindi tutto è legato tutto sobordinato tutto sobordinato al raggiungimento del profitto ecco io penso che un sindacato la CGL il sindacato dei bancari autori debba chiedere dopo il contratto non solo una riflessione rispetto all'Europa come dicevo prima ma anche avviare una discussione se forme di partecipazione diverse dal passato possono essere utili sia per un senso di giustizia sociale ma anche e soprattutto per una capacità maggiore di produrre ricchezza Vincenzo diceva bene che la CGL deve recuperare una cultura finanziaria perché io non riesco a capire questo a Taranto abbiamo l'Ilva a 50 km 80 km da Taranto abbiamo la Banca Popolare di Bari con 3.000 famiglie e quant'altro con tutte le questioni che essa porta sia per i bancari sia per l'indotto e sia per il tessuto economico di quella regione quindi a Bari con le dovute proporzioni abbiamo Taranto e abbiamo la popolare di Bari su Unicredit adesso il nostro amministratore dedicato lui dichiara lui l'ha dichiarato voglio alleggerire la posizione della mia banca rispetto al debito pubblico questo paese non è profittevole nel contempo vendere 2-3 gioielli di famiglia esce la meglio banca che comunque al di là diciamo così dell'invicchiamento di questa struttura comunque rimane un crocevia un crocevia della politica industriale del paese e finanziaria del paese poi dice avendo attenzione alle questioni sociali far dichiarare 10.000 esuberi l'ha detto prima dell'estate questa è stata molto calda poi l'ha fatta un'altra una grande digrazione al grande tasso alcolico quando pretendeva di avere un balzello dello 0,50% sui conti correnti ecco uno che fa una cosa del genere e se vende un qualsiasi prodotto che costa un euro e dice che come dire lo vende a 1,50 viene allontanato ma non perché non è capace perché sei malato questo mi pare evidente allora io dico sul piano industriale di Unicredit tornando un po' serio che intanto voglio capire se questo piano industriale questo piano industriale è al servizio del paese e per essere al servizio del paese quali sono le politiche di non chiusura selvaggia degli sportelli specialmente nel mezzogiorno se investe nel mezzogiorno se ha una prospettiva di sviluppo e soprattutto io non sono convinto che 10.000 esuberi pur tenendo conto l'innovazione tecnologica e tutto quello che sappiamo è una cifra sprovolzionata penso che ci devono convincere intanto che il piano industriale sia appunto al servizio del paese voglio capire se c'è formazione per quanto riguarda che Lando diceva qualsiasi numero sarà degli esuberi la proporzione deve essere del 50% delle assunzioni bene io sono d'accordo insomma ne abbiamo fatto uno ultimamente nella popolare dell'Emilia Romagna esattamente in queste indicazioni ma c'è un problema più di fondo l'innovazione tecnologica su digitale determina due fattori una ignoranza scusate una ignoranza culturale per chi non riesce ad adeguarsi e quindi un'espulsione di mano d'opera e allora c'è un problema di formazione del personale che noi abbiamo chiesto del contratto nazionale e non è che i banchieri o i direttori generali o i capi del personale ci dicono che fanno formazione per milioni di ore annue dove invece il personale ci dice che quando si va va bene diciamo così è una pausa di riflessione rispetto all'attività quotidiale ecco io penso che l'elemento centrale per evitare diciamo così un elemento di ignoranza di ritorno da parte del personale cinquantenne sia molto necessario la formazione perché i giovani che entrano hanno un loro background sul piano digitale mentre i cinquantenni rischiano di rimanere fuori dai processi produttivi questo è un elemento per esempio sul piano industriale di unicredito questo sarà un elemento fondamentale in ultimo lo dico più in generale ripeto noi siamo un comparto del credito cerchiamo di fare fine in fondo il nostro dovere la domanda di fondo a cui dobbiamo rispondere e dare indicazioni è se le forze sociali oggi una volta si sarebbe chiamato un patto fra produttori possono immaginare una via di sviluppo per le loro responsabilità e indicarlo alla politica che se vogliamo abbassare i decibel di questa politica inconcludente chi sta tutti i giorni senza retorica nel fronte del lavoro e parlo degli imprenditori e parlo dei lavoratori e le loro rappresentanze hanno l'autorità morale per indicare una strada perché un paese ripiegato su se stesso come dicevo all'inizio poi ho concluso non dà speranza alle nuove generazioni non risponda a un'insicurezza sociale devastante che per questa via scivola verso una democrazia sicuritaria ecco io penso che il sindacato e gli imprenditori e non ne faccio una questione diciamo così di romanticismo ne faccio una questione economica se il pazzo come lo definiva Vincenzo Trump emette i dazi per quegli importi miliardari va da sé che una classe dirigente normale prova a arginare queste politiche aumentando i consumi e per aumentare i consumi si fanno due manovre un abbattimento delle tasche sul lavoro e mettere salario fresco nelle tasche dei lavoratori queste sono le questioni che ci hanno insegnato tanti anni fa e hanno sempre funzionato io penso che siamo in questa strettoia rinanciare gli investimenti pubblici anche utilizzando capitali privati e abbattere la tassazione sul mondo del lavoro e mettere in tasca salari salario fresco nelle tasche dei lavoratori con un'avvertenza a partire dai giovani dai lavoratori più giovani perché abbiamo oltre che guadagnano meno abbiamo un problema di risarcitorio verso il futuro del paese dobbiamo mettere in tasca a quei giovani lavoratori salario e diritti perché questo paese negli anni 60 nel 30 anni d'oro ha avuto diritti e salario e il paese ha avuto tassi di sviluppo a due cifre questo è il punto quando si impoverisce il lavoro si impoverisce il paese vi ringrazio grazie lascerei la conclusione prima di liberare tutti per il pranzo del segretario colla qui chiedo una cosa è stato citato più volte il tema dell'ex ilva nelle ultime settimane anche un importante banchiere Carlo Messina ha detto che se non si riesce a far rimanere Arcelor la soluzione è nazionalizzare anche ignorando le regole europee cosa ne pensa può essere una strada grazie ma adesso vengo a bomba la domanda se noi perdiamo l'ilva è un paese che non se lo può permettere noi siamo un paese manifatturiero se il ferro lo dobbiamo comprare dai cinesi dai turchi e dai tedeschi mi sembra evidente cosa avviene alla filiera competitiva del nostro paese intanto questo governo ha fatto un errore che deve rimediare cioè gli investimenti pazienti quando dicevo cambiano di reputazione e io non posso modificare in corso d'opera che vado in un Parlamento faccio un ordine nel giorno per dire che tolgo la malleva che era condizione dell'accordo fatto tra Stato imprese e organizzazioni sindacali è inaccettabile guardate che non arriverà nessuno lì se non togliamo la malleva perché quella malleva non è stata messa a Mittal è stata messa ai commissari perché anche i commissari non sarebbero arrivati lì ma posso dire qui ci sono dei sindacalisti chi non ha fatto il malleva sul 2112 è l'articolo del codice civile se voi mi insegnate nelle banche se arriva un soggetto che vuole subentrare c'è sempre questo maledetto 2112 che per fortuna anche c'è che ti comporta che uno arriva e dice oh non voglio rispondere io del passato e quindi il soggetto che vende gli dà il malleva quanto di più ordinario anzi molto spesso il 2112 porta che il soggetto che arriva ti chiede la procedura perché non vuole avere niente col passato lì arriva un soggetto fa l'accordo fa gli investimenti facciamo la più grande operazione di investimenti sull'ambientalizzazione e arrivano tre gatti in Parlamento e fanno un ordine al giorno così e altri tre gatti mettono sotto conte dal punto di vista di toglierlo non può funzionare così un paese io spero che in queste ore ci siano le condizioni per riprendere la matassa di quella discussione diversamente mi sembra evidente che siccome non ci possiamo permettere adesso questa cosa di spegnere i forni i forni IAFO lì si chiamano IAFO 1, 2, 3, 4 che sono i forni per non è che come accendere e spegnere la luce lì se spegniamo i forni non si riaccendono più e il tema delle forniture diventa fondamentale perché lì se non arrivano le forniture ovviamente diventa fondamentale questa discussione del come noi teniamo in vita quella che è la più grande siderologia d'Europa e in questo scenario però io vedo che in queste ore il governo deve dire ammita che abbiamo un accordo quell'accordo importante deve essere rispettato abbiamo visto che è arrivata una crisi della siderurgia perché sull'automotive soprattutto c'è una planata partiamo da quell'accordo non abbiamo problemi a governare lo stato di crisi per uscire dalla crisi ma ci deve essere l'impresa ci deve essere un accordo deve essere rispettato quell'accordo deve essere tolto il malleva abbiamo ripartito dall'accordo facciamo l'operazione di uscita e per quanto ci riguarda più che dire che avete bisogno di un accompagnamento anche ecco perché prima ho detto Obama di un intervento voglio dire non tanto di nazionalizzazione ma di un intervento che dia garanzia alla stabilità anche del paese in rapporto con voi facciamo entrare cassa deposite prestiti guardate che questa discussione inizia ad essere matura per garantire il fatto che questo paese stavolta scommette non ci facciamo più scherzi né noi né voi decidiamo che andiamo in quella direzione e ambientalizziamo facciamo la grande mediazione anche con quella città non possiamo permetterci di perdere l'1,4% del PIL del nostro paese oi andiamo giù per le scale di cantina dentro una crisi così se perdiamo quel pezzo lì non ce lo possiamo permettere ed è evidente adesso c'è la banca ovviamente ma se non c'è l'ILVA senz'altro non c'è la banca se perdiamo quel pezzo lì la banca siamo sicuri che non c'è più con tutte le specificità di quella banca quindi vediamo in queste ore mi sembra che la tenuta anche unitaria di CGL e CISUIL sia precisa permettetemi quei lavoratori lì con tutto quello che è successo non è che possiamo pensare di metterli a vita in amarezza ammortizzatori sociali sono loro che si ribelleranno contro di noi non vogliono gli ammortizzatori vogliono la dignità di un lavoro che gli permette di vivere dignitose loro stessi vogliono ambientalizzare quel luogo per le loro famiglie questa è la nuova storia di ilva e la nuova identità anche di un sud che sono d'accordo col direttore guardate che il nostro paese ce la fa se è in grado di vedere quel sud lì c'è una cultura la cultura anche dell'autonomia differenziata il nord produttivo il sud gli diamo l'assistenza una cultura incredibile non vedere che invece il sud è l'opportunità è l'hab europeo se uno non vede cosa sta avvenendo là in fondo non riusciamo a saltarci fuori nemmeno col nostro paese là in fondo hanno raddoppiato il canale di Suez sta avvenendo sul mondo il mondo Asia Africa quei cinesi lì ma non solo tutto il sistema asiatico passa da lì ci passa attorno e non riusciamo a prenderlo non riusciamo a vederlo la nostra storia del nostro paese che storia abbiamo noi se uno guarda il nostro paese dalla Valtrombia lo guarda giù cosa vede vede un pontile naturale dentro al mare e tutto attorno i nostri porti vedo Bari Napoli Augusta Taranto vedo tutti che sono la storia di questo paese la nostra storia è una storia di logistica di relazione con gli altri e tutti questi porti sono un patrimonio perché è arrivata la siderologia a Taranto perché c'è il porto perché è arrivata a Piombino gli indiani perché c'è il porto e noi abbiamo il più grande porto che Gioia Tauro che ha un retroterra eccezionale ci girano attorno quei cinesi vanno al Pireo l'hanno triplicato io che seguo i porti a Maurizio Landini ho detto non darmi i porti che sono un casino ma ha dato i porti e vabbè fatto apposta e un mese fa ero a Vado Ligure arriva questo cinese un ingegnere cinese a proposito di contratti conosceva più il contratto di me 5 o 6 lingue un'identità con il suo paese incredibile hanno preso tutto il porto di Vado Ligure 300-400 assunzioni c'è il segretario della Camera Laura mi dice io non capisco più niente continuo a fare delle assunzioni qui Gru arriva una nave di 750 metri con 20.000 ateo invadono Vado Ligure perché? perché hanno capito che con quella via della seda arrivando Vado Ligure vanno sul terzo vale che vanno a Rotterdam e risparmio 10 giorni rispetto a passare da Tangeri la prossima settimana sarò a Trieste perché anche lì vogliono prendere le banchine perché lì vanno nella Mitteleuropa e noi discutiamo di reddito di cittadinanza di quota 100 ma io ho Gioia Tauro là in fondo e se io il porto lo vedo faccio il retroporto faccio lavorare i giovani del sud e se c'è e non l'Andraga perché lì ogni container è un euro alla mafia e quindi faccio le ZES poi ma lì devo riportare la civiltà del lavoro la civiltà della legalità e quindi far lavorare quei giovani la grande scommessa e quei cinesi si sono fermati in Africa hanno preso tutte le miniere di ceglio e di litio perché? perché poi hanno detto la Germania che le auto che entrano nella Cina devono essere elettriche gli hanno preso tutte le miniere delle pile ed è incredibile e noi non riusciamo a vedere il cambiamento delle filiere strategiche del cosa sta avvenendo in Europa la Volkswagen farà 25 miliardi in investimento sulla filiera elettrica perché non riesce più portare le auto in Cina perché in Cina chiederanno nei prossimi anni auto elettriche e se io non sto su quella filiera non capisco che stanno cambiando quelle filiere è evidente cosa succede nel mio paese dal punto di vista del lavoro della situazione della tenuta finanziaria dei grandi gruppi se ci sono o non ci sono due grandi major che tirano su petrolio la Total e la Shell hanno deciso di fare un grande investimento sull'idrogeno 25 miliardi con chi lo fanno con la Mitsubishi e la Toyota perché questo tema del Green New Deal il business si sta spostando lì la finanza ha capito che la cultura per fortuna si sta spostando lì perché non regge più il modello produttivo che abbiamo conosciuto un tempo quello taylorist di massa di vendita a chi che sia mentre oggi si specializzeremo rispetto alla sostenibilità queste filiere o le vediamo o non le vediamo e là in fondo il sud è un fatto strategico per l'Europa questa è la discussione che dovremmo fare il nostro paese non a caso col governo guardate lasciate stare la legge bilancio speriamo che non sia un Vietnam che ci saltiamo fuori è 30 miliardi quella legge di stabilità è sufficiente essere ritornati un po' in Europa che ci hanno dato un po' di flessibilità perché se no non ci saltavamo fuori ma di quei 30 miliardi diciamoci la verità possiamo andare avanti che tutte le volte dobbiamo togliere 20 miliardi d'iva 23 miliardi sono d'iva 3 miliardi le abbiamo portati a casa un po' per i lavoratori sul cuno fiscale 2 miliardi la sanità riga noi invece dobbiamo spostarci e dove posizionarci su un'idea di che investimenti dobbiamo fare per stare nelle grandi catene del valore che scambieranno il nostro paese se non vogliamo diventare conto terzista povero subordinato degli altri quali sono le grandi filiere le grandi filiere sono quelle energetiche l'energia cambierà la storia del nostro paese e la sostenibilità in tutte quelle imprese che ho in crisi hanno un problema energetico e anche quei ragazzi che hanno scioperato il mirino l'ha messo giusto abbracciamoli hanno visto che c'è l'ambiente la cultura sta andando lì ma io faccio il sindacalista e devo vedere il mio paese cosa ho detto quei ragazzi voi ragazzi siete splendidi però venite con me in Sardegna perché lì ci sono due centrali a carbone io sono disponibile a chiuderle ma se chiude quelle due centrali a carbone la Sardegna non c'è più niente perché è l'unica regione in Europa che non ha il gas unica regione in Europa che non ha il gas ed è l'unica regione che è in grado di fare l'alluminio il piombo e quei lavoratori cosa diventano ambientalisti di destra se non sono in grado di progettare investimenti allora l'alleanza banca e sistema produttivo e parti sociali è fondamentale in questo paese per star dentro nell'idea del progetto di sviluppo del mio paese avevamo la TAP che una forzatura lì dovuto andare il nostro presidente Mattarella dal presidente dell'Azerbaijan per dire che facciamo la TAP perché la TAP perché se io chiudo le centrali a carbone come le chiude la mia transizione la faccio a gas e siccome il gas ormai è un terreno geopolitico perché io ho un tubo di quel matto di Putin l'altro tubo ce l'ho in Libia che continua a fare la guerra se non ho un terzo tubo io il manifatturiero se qualcuno diventa matto non sono in grado di tenerlo e perché mi serve la TAP perché io sono gomma centrico scoppio ho bisogno di spostare sul ferro sull'idrogeno e sull'elettrico le mie produzioni progettare questa cosa vuol dire la politica industriale vuol dire la politica della finanza ed è questo che abbiamo detto il governo quando parliamo di infrastrutture spendiamo anche i soldi che abbiamo ma è possibile che abbiamo i soldi lì bloccati su investimenti di tutti il pubblico non è più in grado di fare un bando pubblico guardate cosa abbiamo detto quel ministro lì Piacentino la De Micheli anche io sono Piacentino capita che arrivano dei ministri Piacentini io ho detto guarda hai una fortuna c'era un ministro lì che continuava a verificare Toninelli sei piena di soldi non ha speso niente lui verificava continuava a fare delle verifiche spendi quei soldi lì guarda cosa ti dice la CGL non ci saranno dei giornalisti qua spendi quei soldi lì fai anche qualche commissario perché altrimenti dobbiamo averla frustata perché abbiamo un problema di mercato interno abbiamo bisogno di far partire alcuni cantieri dove i soldi ci sono e dobbiamo avere la possibilità di far ripartire quei cantieri poi riprogettiamo le filiere questa è la nuova discussione e in questo scenario ha ragione Sileoni dal punto di vista del passaggio l'Europa è fondamentale io penso che la politica monetaria abbia finito il suo ruolo dal punto di vista contemporaneo il cavallo non beve più posso dire quella bici è lì poi guardate adesso Draghi è diventato uno di sinistra ma con cautela un po' perché adesso qui però certamente era lui in Europa perché noi eravamo usciti dal CDA in termini politici l'Italia era uscita dal CDA dell'Europa e c'era lui che ha fatto una mediazione però qui nessuno l'ha detto è vero che il tema degli interessi vuol dire sul debito pubblico ha funzionato ma gli NPL che noi abbiamo sono dentro gli stress test i derivati sono fuori dallo stress test a chi sono dati quelle cose lì sono dati alle banche tedesche a quella anglosassone perché se sei fuori dal CDA e non fai quella discussione politica è evidente che il mio paese si indebolisce noi dobbiamo rientrare nel CDA perché anche l'ILVA io penso che si salva se c'è un'idea di tenuta anche del sud dell'Europa l'ILVA non è solo un problema ormai del nostro paese perché io non posso avere tutto il sud dell'Europa scappa da quel sud lì il tema anche del salvataggio dell'Europa a tutte le siderurgie in Europa gli si può dire a questi signori qui indiani oi ciccio non è che fai quello che vuoi in Europa non è che mi chiudi Tarleton per darmi qualche lavoratore in più qua no serve una nuova morale industriale in Europa che mi permette di tenere la coesione sociale ma potrei dire la stessa cosa per l'Italia all'Italia vediamo speriamo bene che tutto funzioni ma anche lì quando dico che siamo usciti dal CDA dell'Europa uno pensa soltanto no all'Italia è stata saccheggiata da una cultura che non c'era dicono all'Italia è in default perché c'è l'alta velocità abbiamo impiegato dieci anni a fare l'alta velocità uno si poteva accorgere che c'era l'alta velocità no l'Italia è che non è più stata concepita nel mondo vi sembra a voi che non abbiamo un volo per Pechino un volo per Shanghai un volo per Hong Kong e arrivano dieci voli dalla Cina che arrivano pieni zeppi e vanno e vengono e abbiamo dato tutti i voli intercontinentali ai francesi è evidente che poi anche i miei patrimoni se non producono ricchezza per il mio paese è ovvio dove va quella ricchezza va fuori dal mio paese e quindi le mie banche non sono in grado di fare un sistema di economia di scala che sia la portata dei grandi cambiamenti che è la discussione che dobbiamo fare e in questa operazione permettetemi Calcagna ha parlato di una nuova partecipazione io inizio a pensare che sia un tema cui dobbiamo sviluppare anche culturalmente meglio all'interno della CGL se la rappresentanza la facciamo diventare un fatto pubblico io apprezzo sui leoni che vuol dire molto bravo però facciamo diventare un fatto pubblico la rappresentanza che i lavoratori devono votare la loro rappresentanza poi ognuno si candida a diventare il primo sindacato io voglio diventare il posto tuo però è la democrazia che decida sono i lavoratori che votano e che scelgono e si iscrivono liberamente la rappresentanza non deve essere più un fatto privato ma deve essere un fatto pubblico perché quando io firmo un contratto si deve sapere chi è con la Vincenzo chi rappresenta e quando lo firmo se rischio di modificare in positivo o in negativo la vita di milioni di persone è evidente che la rappresentanza deve essere un fatto democratico pubblico e serve una legge sulla rappresentanza un secondo dopo io penso che siccome lì abbiamo un pluralismo sindacale la CIS ovviamente è più restia su questo terreno abbiamo bisogno anche lì di riscoprire una nuova idea di partecipazione dei lavoratori ma non una partecipazione che sia in grado che farsi che i lavoratori sia in grado di fare la discussione strategica che partecipa alla discussione dentro una banca ma a monte non a valle non è sufficiente qualche azione abbiamo bisogno di coinvolgere anche per far crescere un gruppo dirigente alla complessità della fase allora i rappresentanti e i lavoratori devono essere dentro a bonte non a valle e il tema di una legge sulla partecipazione è maturo e non ho bisogno di riscoprire i tedeschi facciamola all'italiana ma il tema esiste altrimenti là in fondo ci resta solo il conflitto se siamo in grado lo facciamo se non siamo in grado passa come una ruspa il soggetto imprenditoriale quindi il tema della partecipazione è un nuovo modello di riconoscersi e poi se è così come organizzazione riscopriamo una nuova idea della bilateralità quali idea di inclusività su quei lavoratori che sono nella filiera e che gli dobbiamo dare pari diritti pari condizioni utilizziamo la bilateralità perché la frammentazione del nostro paese non è in grado di avere un sindacalista ogni lavoratore ogni impresa non ce la facciamo quindi il terreno della bilateralità deve avere anche questa operazione che è in grado di mettere dentro con rappresentanza lavoratori dentro la filiera a cui non arriveremmo bella discussione ecco questa buona l'ultima ringrazio tutti i partecipanti a questa tavola rotonda ricca di spunti e basta auguro buon appetito a tutti grazie